Allora, buonasera ragazzi e buonasera ragazzi, benvenuti al quarto ciclo del percorso di formazione 24 CFU dell'Università di Roma d'Orvergata, nello specifico al corso di Psicologia Generale. Io sono Mattia Della Rocca, sarò il vostro docente per queste cinque settimane, mi presento un po' brevemente e poi in serata invierò a tutti sul gruppo e lo posterò anche sul canale di Teams un sondaggio perché vorrei conoscere anche voi, nel senso che vorrei sapere da dove venite, qual è il vostro background, qual è il vostro percorso, sia per conoscerci, perché penso che sia una parte importante anche della formazione, sia perché così posso realizzare un minimo assessment sui temi del corso, visto che di solito il percorso 24 CFU è sempre partecipato da tutto l'Ateneo e quindi da persone che hanno background molto differenti. Intanto posso fare la cosa semplice che è presentarmi io. Io sono dottore di ricerca in filosofia e storia della scienza, mi sono addottorato all'Università di Pisa, mi sono occupato per quelle questioni di ricerca legate al dottorato, a delle questioni storiche ed epistemologiche legate allo sviluppo delle neurotecnologie. Per una questione di affinità disciplinare e anche di interesse, dopo alcuni periodi di postdoc passati in alcune istituzioni, anche mediche, del paese e all'estero, sono diventato professore a contratto di psicologia generale, qui nell'Università di Roma Tor Vergata, che è anche la mia alma mater, in alcune scuole di specializzazione in psicoterapia e per una ONG che raccoglie 250 università circa degli Stati Uniti. Per Tor Vergata insegno anche pedagogia speciale alla Facoltà di Medicina e per il corso di laurea in editoria Psicologia degli Ambienti Digitali. Io amo molto la materia che insegno e soprattutto amo molto il PF24, questa è una cosa che ve la voglio dire subito, nel senso che io ritengo che sia un grande onore e anche un grande onore essere il vostro docente per permettervi di diventare dei docenti. Credo che buona parte dei mali del mondo si risolveranno con un corpo docente in questo paese che sia decente, scusate il gioco dei parole, qua sta già cominciando a diventare una specie di freestyle. Detto questo, impareremo a conoscerci meglio, portando esempi e aneddoti dalle nostre esperienze di vita, incluse le mie, che sono importanti perché anche il resto del lavoro che uno fa ve lo accenno subito, anche perché ritornerà spesso nel corso di queste lezioni. Io faccio anche l'educatore per bambini con disabilità e DSA, che è qualcosa che mi ha aiutato molto intanto a tarare l'insegnamento del PF24, che al suo interno avrà per esempio tutta una serie di focus e di approfondimenti, per esempio su temi come i disturbi dell'apprendimento o i bisogni educativi speciali, da un punto di vista psicologico. Detto questo, spesso la gente mi chiede, Ah, insegni psicologia? Sei psicologo? No, non sono psicologo, la insegno solo. Sembra sempre una cosa strana, di no, no, io la insegno solo. In realtà penso che questo sia un vantaggio, perché comunque lavoro tendenzialmente quasi sempre con psicologi, in particolare con neuroscienziati e con neurologi. Ma credo che dovremmo partire già da subito con un inquadramento che sia un inquadramento anche storico, culturale, filosofico, ma questo diventerà chiaro già dai primi dalla prima ora di questa lezione di oggi. Detto questo, visto che adesso stiamo registrando e poi caricherò su YouTube questo materiale, vi ho dato il link del mio canale YouTube dove normalmente mando in diretta, oggi non ci sono riuscito, la caricherò, ma di solito mando in diretta affinché poi siano automaticamente registrate le lezioni che svolgo per l'università pubblica, anche perché, perdonatemi la prima nota polemica, ne sentite tante le note polemiche mie, io sono molto polemico, io sono molto, come dire, arrabbiato per il fatto che con il passaggio all'online forzato su piattaforme forzate, di Teams, Teams in uno specifico, è venuta a me una cosa che secondo me era un grande pregio dell'università italiana, cioè quello di essere pubblica, la Costituzione lo dice, no, l'arte e la scienza sono liberi, è libero il loro insegnamento, e questo si traduceva nel fatto che se io non ero iscritto, o se non sapevo se volevo iscrivermi magari, potevo tranquillamente andare a sentire una lezione di letteratura latina, perché mi bastava entrare dentro all'aula se avevo del tempo, adesso questa cosa se non ho un codice di Teams non la posso fare, io trovo che sia aberrante, e questo è il motivo per cui pubblico, ovviamente senza mostrare i vostri volti, altrimenti vi dovrei chiedere delle liberatorie, però pubblico queste lezioni, che potete trovare su quel canale lì. Al di là di questa specifica tecnica, parto con un po' di specifiche tecniche sul corso, il corso è articolato in cinque settimane, da due lezioni da tre ore, il venerdì e il sabato, voi pensate probabilmente io sia un sadico per aver scelto questi orari e questi giorni, in realtà è una cosa che faccio storicamente, perché la maggior parte dei miei studenti PF24 sono dei lavoratori, e quindi questi sono stati, di solito sono i giorni, o erano almeno i giorni prima che lo smart working si tramutasse in schiavitù, forzata, espansione del tempo lavorativo, erano i momenti in cui le persone potevano frequentare di più. In ogni caso, eventuali approfondimenti, eventuali focus, adesso sfruttiamo almeno quello che ci offre la tecnologia informatica, li posso sempre comunque registrare, caricare, ora vediamo anche se eventualmente fare una piccola repository con dei materiali, ma per quello può abbassare Teams, d'altra parte Teams serve a quello, a passarsi i documenti tra amministrativi, un po' meno a studiare. Io queste tre ore le faccio tendenzialmente piene, ma con delle pause, e nonostante io vi chieda tendenzialmente se potete accendere la cam, di maniera tale che non mi sembrate vivere in un film da fantascienza distopico in cui parlo per tre ore di psicologia con uno schermo, sentitevi liberi di fare, insomma, state tranquilli, faremo comunque delle pause, anche perché io intanto devo bere, ma sentitevi insomma molto tranquilli, molto rilassati, e a questo proposito è molto importante che voi sappiate subito una cosa, nei miei corsi ci si dà del tu, cioè io vi do del tu, voi mi date del tu, se andate in qualsiasi università del mondo è molto difficile che ci sia del lei, non è soltanto perché you e you si dicono alla stessa maniera, è proprio una questione di forma mentis, fa parte del mio metodo didattico, non è una questione di informalità a tutti i costi, e questo fa il paio con il fatto che dovete sempre sentirvi liberi di alzare la mano o eventualmente intervenire. Sulla questione dell'alzata di mano online mi perdonerete se ogni tanto faccio dei momenti in cui mi fermo e raccolgo le alzate di mano, ma perché mi è difficile, non sto in classe e non vi vedo subito al volo, quindi però voi sentitevi sempre liberi di intervenire, chiedere spiegazioni, ho fatto dall'inizio la premessa del mio background in filosofia, quindi insomma mi dispiace per i colleghi filosofi e le colleghe filosofi in aula, però insomma lo sanno tutti che siamo persone prolisse, quindi partiamo ogni tanto per la tangente, se vedete che parto per la tangente, visto che non potete neanche tossire o farmi un cenno, vi prego semplicemente alzate la mano, intervenite per chiedermi chiarimenti, questo con molto piacere. Il corso è un corso di psicologia generale per il codice, per il settore scientifico disciplinare MFC01, uno dei 24 CFU per l'appunto. Oggi vedremo cos'è la psicologia generale, in ogni caso diciamo che è l'introduzione, il fondamento delle scienze psicologiche nel momento in cui ci si approccia al loro studio e cercheremo di affrontare tutti i temi che costituiscono lo scheletro portante, lo scheletro portante, no non mi disattivate l'audio ragazzi per favore, se mi disattivate l'audio voi succede un casino, poi mi appaiono queste strane icone. Dicevo, in questo corso cercheremo di affrontare tutti i temi, cioè dalle introduzioni storiche e metodologiche fino agli aspetti legati alle personalità e alle relazioni. Io cercherò di rimanere nei tempi, voi in caso continuate per l'appunto a tossire, non mi staccate l'audio, quello no perché può essere io continuo per 15 minuti e voi non mi sentite, capito? Per quanto riguarda il libro di testo, io ho indicato Myers, il manuale di psicologia generale che mi sembra sia edito da Zanichelli. È chiaro che vanno bene comunque anche le edizioni che non vanno più tardi del 2014 magari, del Feldman e anche per esempio del Kuter o dello Schachter, che sono essenzialmente i manuali di psicologia generale. La psicologia generale è quella, ci sono delle differenze che ciascuno di noi cerca di evidenziare, enfatizzare all'interno dei programmi, in particolare vi diverrà chiaro da subito quale tipo di approccio è quello che uso io e che usa anche la collega, insomma è stata mia maestra Carmela Morabito, che è quello di un approccio alla psicologia molto legata alle neuroscienze e quindi anche molto legata alla corporeità. Hai staccato il microfono? Sì, grazie. Lo so, può succedere? In questi momenti ci sono grandi momenti di incertezza tecnica, non so se avete mai letto quella vignetta del New Yorker, quella che dice le riunioni su... le videocall in realtà sono solo moderne sedute spiritiche. Ci sei? Mi senti? Tutti i rumori? Quindi per il libro sentitevi liberi di adottare uno dei testi che trovate con facilità. Ovviamente tutto questo va registrato, quindi io non posso fare dei nomi specifici di specifiche copisterie che hanno dei nomi da criminali degli anni 70 nella periferia romana, ma sappiate che intorno è molto facile trovare questo libro, intorno all'università. Quindi poi magari, ecco, nel fuori onda ve lo dico pure. Il corso prevede un esame orale da quest'anno per tutti coloro che avranno bisogno o necessità di fare l'esame online, perché come dicevo prima, questo lo rivendico apertamente anche se è contro le regole dell'Ateneo, io farò fare comunque anche il secondo e terzo appello in modalità a distanza ma orale per coloro che dovessero trovare delle difficoltà, anche difficoltà economiche, ad arrivare a Roma per fare l'esame. Invece chi verrà in presenza avrà la possibilità di fare questo esame scritto. L'esame copre normalmente tutti i macro temi del corso, beh, per un orale è abbastanza scontato. Di solito l'esame scritto è composto da sei domande, ciascuna cinque punti, su dei macro temi con degli approfondimenti. Che altro dire? Se avete questo corso con questo codice all'interno del vostro piano di studi potete ovviamente farlo, ed è valido per i 24 CFU. Coloro tra voi che fossero qui per frequentare il corso ed eventualmente sostenere l'esame, anche se devono ancora iscriversi, perfezionare l'iscrizione alla 24 CFU possono farlo, ci mancherebbe altro. E mi sa che ho detto tutto. Mi diceva prima una collega, scusate pian piano memorizzerò i nomi, ecco io vi chiedo di accendere la webcam per l'appunto anche per quello, una collega prima ci diceva che è stato fatto un gruppo di Whatsapp, dopo sia sul canale Teams che sul gruppo di Facebook, che è l'altra risorsa utile per informazioni e rimetterai il link di maniera tale che anche voi possiate eventualmente insomma come dire comunicare rapidamente. Se poi tra voi all'interno del gruppo in cui parlate male di me volete rileggere un rappresentante o una rappresentante io mi posso mettere in contatto anche telefonico con il rappresentante o la rappresentante per facilitare ulteriormente le comunicazioni. Comunque tendenzialmente insomma stiamo online non penso ci sia un grandissimo problema. Dunque detto questo fatta questa introduzione mi sembra di aver detto quasi tutto quello che ci stavamo dicendo anche prima internos. Detto questo io partirei con la prima lezione che è dedicata come avete visto dal titolo a la storia le teorie e i modelli della psicologia. Un titolo abbastanza come dire se volete un po' pomposo e altisonante perché in realtà vuole avere soltanto la pretesa di cercare di tenere insieme diversi aspetti diverse fenomenologie diverse forme fenomeniche di una disciplina che è una disciplina complessa. Io non ve lo non ve lo necherò la psicologia non è una disciplina facile da studiare è una disciplina su cui ho avuto parecchie difficoltà anche io nel corso della mia formazione perché tiene insieme effettivamente molti piani del discorso diversi tra di loro un discorso che è molto figlio della filosofia occidentale allo stesso tempo metodi che riguardano tecniche di laboratorio tecniche di indagine statistica che sono avanzatissime dalla statistica inferenziale al calcolo beisiano io non so chi di voi viene da matematica chi viene da scienza e poi dopo l'assessment vi conoscerò un po' meglio però tendenzialmente la psicologia è questa strana disciplina parla dell'uomo collassa anche su se stessa perché è la mente che vuole studiare se stessa e contemporaneamente però si vuole una scienza medica quasi comunque una scienza biomedica se noi andiamo a a cercare una definizione che sia una definizione più o meno generale possiamo dire questo cioè possiamo dire che la psicologia è lo studio scientifico del comportamento e dei processi mentali aspettate un secondo non so se state scrivendo no sembrate no è lo studio scientifico del comportamento e dei processi mentali e all'interno dell'ambito di indagine della psicologia ricadono la cognizione cioè tutte le nostre abilità cognitive le abilità di pensiero di ragionamento logico il comportamento che studieremo ha un'accezione molto particolare all'interno della psicologia quando diciamo comportamento vogliamo dire una cosa ben specifica e in particolare dimmi no ha fatto bene ah non lo vedi tu aspetta blocco la ci sarà il modo questo ci sarà il modo per fare guarda credo che tu debba mettere invece che la visualizzazione a galleria la visualizzazione oratore salvatore cioè che è una cosa che devi fare sei in evidenza il video è evidenziato per me va bene non so chi è evidenziato no rimettimi in evidenza chiunque sia stato rimetti in evidenza il video ecco sei in evidenza il video è in evidenziato per tutti gli utenti della riunione a posto allora restiamo così così dovrebbe funzionare abbastanza serenamente lo vedete meglio adesso no? ok no figuratevi queste anzi impariamole subito sì eh no questo questo penso di sì perché se qualcuno riesce a vedermi evidentemente sì provate a fare provate eventualmente a entrare vedete Teams quanto è bello o sull'app di Teams se state da browser o viceversa so che è essere uno dei problemi classici di quando si sta in tanti dentro una una riunione però se gli altri le altre mi vedono evidentemente sì è una è una issue vostra ok ragazzi guardate io magari di questo ne parliamo un attimo ne parliamo un attimo dopo se se volete così cerchiamo un attimo di capire se c'è un modo per ovviare a tutto questo in ogni caso considerate che oggi potete tranquillamente sit back and relax cioè nel senso veramente mettetevi comodi anche perché se no vi allappo per tre ore vi faccio una vi faccio un'introduzione io proprio rilassatevi state sciolte sciolti e proviamo a e proviamo a farlo sì guarda dubito che sarà così però provateci cioè provateci provateci se vedete mai provateci provateci però ogni tanto almeno parlate cioè datemi datemi la sensazione che non sto parlando diciamo proprio con le mie stesse slide anche che sarebbe terribilmente autoreferenziale e provate a staccare provate a staccare le va bene aspettate 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 il secondo sì sì allora ci provo allora ci proviamo allora ovviamente non 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 si vede niente perché se no è troppo vediamo così lo vedete così lo vedete meglio oh va bene oh va bene va bene va bene allora meglio così dai un amo risolto allora dicevo grazie grazie già siamo un gruppo bellissimo vedete già già c'è molto c'è molto feeling tra di noi allora dicevo la cognizione il comportamento che ha un valore specifico è una parola che vedrete in particolare si riferisce a quel comportamento che noi possiamo osservare come osservatori esterni lo chiamiamo anche comportamento manifesto infatti poi c'è la coscienza che è un altro insomma tema abbastanza interessante no anche perché vedrete che è uno dei termini più sfuggenti che ci sia la coscienza indica contemporaneamente cose legate all'attenzione cose legate al nostro senso del sé poi ci sono pure le emozioni che sono state un po' la cenerentola della psicologia per tantissimo tempo e che però come dire da partire dagli anni 50 del 900 sono rientrate a pieno titolo a far parte degli oggetti nobili di studio della psicologia e infine c'è anche io normalmente l'abistratto un pochino perché la lascio ai colleghi di psicologia dinamica ma c'è anche la questione della personalità un altro termine molto sfuggente ma che quest'anno comunque ho deciso di inserire nel programma quindi ne parleremo inoltre e questo è vero in particolare per il mio modo di approcciarmi alla disciplina lo studio della psicologia prevede un dialogo attivo e forte tra quello che chiamiamo accadimento psichico cioè quello che succede a livello mentale e i correlati biologici nello specifico i correlati neurobiologici è molto importante che voi capiate da subito che io non penso che esista una vita possa esistere una vita mentale senza un cervello anche se penso che la vita mentale non è ridotta soltanto al cervello nel senso che è anche molto di più di quello che succede tra i nostri neuroni però senza i neuroni e il sistema nervoso senza il sistema nervoso centrale e periferico non esisterebbe la cognizione per come la conosciamo noi e quindi come vedrete in un uggioso sabato mattina che in uno specifico è domani parleremo del sistema nervoso cercheremo di conoscere bene quella condizione di possibilità biologica materiale fisica che permette tutto quello che poi noi chiamiamo la nostra psicologia la psicologia dell'essere umano anche se poi noi vedremo ci occuperemo anche molto di animali questa è la psicologia senso latu detto questo poi ci sono delle aree specializzazioni più o meno forti più o meno alla page per esempio c'è la psicologia cognitiva molto di quello che noi faremo in questo corso è psicologia cognitiva cioè la psicologia che è emersa come studio delle capacità di cognizione dell'essere umano a partire dagli anni 60 e il 900 che poi è stato man mano come dire arricchito da altre considerazioni e anche da modelli lievemente differenti diciamo che psicologia cognitiva e psicologia generale sono quasi due sinonimi a oggi insomma negli anni 20 del ventunesimo secolo dopodiché c'è la psicologia clinica e questa come dire la conosciamo tutti anzi forse per molti aspetti è una psicologia più nota molto più complessa della psicologia generale considerate che mentre vi parlo ci sono 500 scuole almeno di psicoterapia in tutto il mondo 500 indirizzi di specializzazione differente ed è molto probabile che alla fine di questa lezione ne sarà nata un'altra perché tendenzialmente gli psicologi clinici hanno questa tendenza all'ascissione che è paragonabile soltanto alla storia della sinistra italiana però psicologia clinica è sicuramente resa molto popolare almeno nella sua accezione un po' più egemonica che è quella della psicoanalisi freudiana per l'appunto ciascuno di noi ha in mente quest'idea di questo psicologo che sta a fianco a una poltrona a fianco a un lettino e vi chiede dei sogni tra l'altro non so se lo sapete signore e signori ma uno dei modi peggiori per indispettire le psicologhe e gli psicologi quando si uscite insieme è ma ti posso raccontare un sogno non la fate mai questa domanda perché poi gli psicologi si risentono la sentono tutti i giorni c'è anche la psicologia sociale psicologia sociale un po' ne parleremo noi verso la fine del corso e mi capiterà di parlarne un po' anche qui e là all'interno del focus su alcuni argomenti è la psicologia che studia l'individuo come risultato di una serie di fattori che lo influenzano che sono presenti nel modo in cui ci relazioniamo con i nostri conspecifici fenomeni come l'obbedienza all'autorità il conformismo la moda i rituali di accoppiamento sembrano dei galline diciamo le strategie di mating di accoppiamento e di creazione di relazioni intime ma anche per esempio l'aggressione l'aggressività non l'aggression l'aggressività si dice aggression in inglese ma l'aggressività in italiano l'aggressione è l'atto fisico vengono studiate dalla psicologia sociale che ha dei modelli molto importanti molto interessanti ne condivide alcuni con la psicologia cognitiva sicuramente avremo modo di parlare anche di questo perché insomma come diceva la psicologia sociale è sempre molto bella nelle sue storie e nei suoi aneddoti pensate all'esperimento della prigione di stanford di zimbardo e altre cose che se non conoscete imparerete a conoscere tra l'altro altra piccola parentesi mi vorrete perdonare ma io credo che un buon dialogo anche con la cultura pop sia importante per cui tendenzialmente spesso e volentieri vi darò riferimenti a film a fumetto a canzoni però provate a vedere magari vi aiutano anche a fissare le cose in memoria poi c'è la psicologia dello sviluppo e questo anche sarà una sorta di light motive per il nostro corso la psicologia dello sviluppo è quella che si occupa del sviluppo longitudinale del soggetto cioè la cosiddetta ontogenesi lo sviluppo dell'individuo perché effettivamente la psiche e la cognizione cambiano molto durante lo sviluppo questo ha molto sicuramente a che fare anche con l'apprendimento che è un altro tema forte nostro in particolare perché questo è un corso del pf24 un'unica nota da segnalarvi è che la psicologia dello sviluppo oggi ha abbandonato la nomea di psicologia dell'infanzia per essere una psicologia dello sviluppo to cure che coinvolge anche ad esempio le fasi più tardive della vita delle persone quando oggi noi ci occupiamo della psicologia dello sviluppo possiamo anche occuparci per esempio delle involuzioni cognitive che si hanno nei pazienti senili o nei soggetti senili c'è poi la neuropsicologia e la psicobiologia cioè o anche neurofisiologia o neuroscienze se preferite in particolare neuroscienze cognitive che è la psicologia che si occupa di verificare e mettere in collegamento i modelli teorici sul comportamento della cognizione con i dati che noi abbiamo sul funzionamento del sistema nervoso quindi dallo studio dei riflessi allo studio delle afasie a quello dei disturbi cerebellari l'acquisizione o la perdita del linguaggio o della rappresentazione del corpo questi è tutto sono tutti temi che sono di competenza della neuropsicologia o della psicobiologia ci sono poi la psicologia umanistica e culturale queste sono le distinzioni che trovate all'interno dei manuali che sarebbero quelle psicologie che si occupano dell'uomo e del suo rapporto con la cultura io queste sinceramente neanche le metterei nella lista le metto solo per amor di cronaca e di completezza perché secondo me e questo ve lo renderò chiaro attraverso le parole di un filosofo che amo molto la psicologia è sempre umanistica e culturale non fosse altro perché parla di una certa idea dell'uomo e non fosse altro perché parla di un certo rapporto con la cultura io tanto fra un po' scopro le carte diciamo che ho un certo interesse personale culturale filosofico arriva a dire che senza rapporto tra la società la storia della società e la scienza non puoi neanche capirla la scienza esiste una influenza ideologica strutturale mettetela come vi pare della storia dei rapporti storici anche all'interno della scienza e quindi ecco questa rimarrà diciamo avete capito questo abbastanza polemico quindi insomma nelle mie note polemiche questa parte umanistica e culturale la sentirete dire spesso ecco la questione del fatto che ci sia un rapporto forte tra la storia e la scienza è dettato anche dal fatto che la scienza pur volendosi nella sua volgarizzazione come una cosa eterna positiva che ogni volta che tu aggiungi un pezzetto capisci una cosa di più in realtà non funziona propriamente così io oggi vi farò la storia della disciplina ma non vi farò la storia della scienza in generale per ora sappiate una cosa importante noi parliamo di teorie e di modelli all'interno della scienza sì sì prego io per esempio faccio psicologia cognitiva io non curo la gente la psicologia clinica sono gli psicoterapeuti clinica no? sono gli psicoterapeuti però anche lì la verità è che ci possono essere psicologi clinici non terapeuti ma questa è una distinzione legale Beatrice perché psicoterapeuta è chi ha fatto allora io posso essere psicologo clinico e dopo la laurea andare a lavorare in un'asl come supporto a un gruppo di medici psicoterapeuta è se ho fatto una scuola di specializzazione di almeno quattro anni che mi dà il titolo operare come professionista poi per chi stesse chiedendo gli psicoanalisti sono una una specie di nicchia ecologica all'interno della più ampia famiglia degli psicoterapeuti e per chi ancora se gli stesse chiedendo anche questo ma magari non lo vuole dire lo psichiatra è un medico mentre gli psicologi non sono dei medici questa è una cosa importante cioè nel senso lo psichiatra è più può assegnare le medicine lo psicologo no e se lo fa state state vivendo una truffa anche se si può essere psichiatra e psicoterapeuta insieme questa però è una cosa un po' complessa ma è più una specie per l'appunto dei comma 22 tutto il giorno che parliamo del comma 22 ci sono un sacco di casini burocratici però la psicologia clinica si occupa della patologia e del benessere ok la psicologia cognitiva io parlerò di patologie in questo corso Beatrice assolutamente perché noi capiamo spesso il normale guardando il patologico la differenza è che la mia disciplina la psicologia generale al massimo ti dà un modello di come funziona ma non dice niente su come si dovrebbe curare ok ah perfetto allora dicevo all'interno della scienza noi abbiamo delle teorie e dei modelli anche queste parole sono parole importanti io spesso le userò ma sono importanti soprattutto per comprendere questa storia del rapporto tra scienza e storia e società allora quando sì vai vai ricca allora la differenza sta nella formazione la differenza sta nella formazione che però non è irrilevante intanto perché la maggior parte degli psichiatri non tutti però la maggior parte degli psichiatri quando si avvicinano alla cura della malattia mentale lo fanno attraverso i farmaci per l'appunto ok di cui poi noi parleremo quando parleremo di droghe quindi insomma vi racconto cercherò di farvi capire bene come funziona i psicoterapeuti tendenzialmente proprio perché sono psicoterapeuti fanno terapia parlata cioè magari anche con attività così gruppo però non sono persone che si affidano ai farmaci per portare avanti la loro cura ci sono poi una serie di di piccole cose che sembrano piccole ma in realtà lo sono più o meno relativamente per esempio gli psicoterapeuti non giurano non fanno il giuramento di Ippocrate ok non sono non sono personale medico che sembra una cosa detta così di niente non so se ci sono colleghi di medicina spesso capitano però l'essere medico ha tutta un'altra serie di anche di oneri nei confronti della società in ogni caso sono due figure molto simili molto spesso lavorano insieme molto spesso gli psichiatri per proprio anche per passione fanno un corso da psicoterapeuta fanno una scuola di specializzazione in psicoterapia e sul loro biglietto avessi scritto psichiatra perché sono medici psichiatri psicoterapeuta perché sono abilitati all'esercizio della psicoterapia cioè della terapia insomma più o meno sull'ettino considera che Freud Freud che era medico e sosteneva categoricamente che solo i medici potevano diventare psicoanalisti cioè che solo gli psichiatri potevano diventare psicoanalisti o tutt'al più i neurologi più avanti nella sua carriera decise di aprire anche ai neonati psicologi perché la psicologia lo vedremo nasce storicamente abbastanza tardi da un punto di vista ufficiale quindi c'è una sorta di conflitto non conflitto sono una sovrapposizione parziale però poi esistono delle differenze anche significative perché gli psichiatri per esempio gli psicologi studiano 5 anni e 4 anni di specializzazione 9 i medici di solito studiano almeno 11 anni cioè 6 o più 4 più 5 in cui c'è la specializzazione medica che è anche molto di reparto mentre gli psicoterapeuti fanno un po' fanno un'attività clinica differente però sì per alcuni aspetti diciamo possono coincidere spesso coincidono cioè per esempio il direttore della mia scuola di specializzazione in psicoterapia è psichiatra perché è medico ma è psicoterapeuta e lavora in una scuola di psicoterapia ok eh guarda se l'avessi detto a uno psicoterapeuta o a uno psichiatra avresti scatenato il più grande flame forse anche una rissa assediata in faccia dicendo non è vero niente però non lo so allora no ti spiego no perché questa è una vexata quest io Beatrice nel senso gli psichiatri spesso sostengono questo la verità è che per esempio mettiamoci mettiamoci nei panni di una malattia mentale non di un disturbo neurologico di una malattia mentale gravissima come la schizofrenia quando ti trovi davanti a schizofrenia è quasi sempre necessario utilizzare dei farmaci più che altro per permettere al al paziente esatto di entrare però poi alla fine chi è che risolve il problema il farmaco o il terapeuta che ti ha preso in carico mentre lo psichiatra ha dato il farmaco lo psicoterapeuta dice lo so io perché so io che ci passo 4 ore a settimana a parlare a portare avanti i problemi lui gli dà soltanto i farmaci poi quanto di questo c'è come posso dire invidia rivalità non te lo saprei dire io non so ok sì 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 no 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 ma hai fatto bene hai fatto bene esatto sì 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 assolutamente e come dire è una è una questione anche importante io poi su questo ci tornerò perché poi anche io come dire ho le mie opinioni a riguardo di questo molto simili a quello che ci siamo appena detti però come avete visto io molto furbescamente che dico all'inizio ma anche in generale lo dico quando conosco qualcuno mi chiede che lavoro fai psicologia ma la insegno solo perché io dentro a queste diatribe non ci voglio mai entrare le lascio volentieri ai colleghi quindi insomma spero di aver risolto ma tanto in ogni caso parleremo se volete qualche ospite dalla clinica lo porto anche durante il corso se ci potete parlare quindi insomma con molto piacere ritorno un attimo alla questione delle teorie dei modelli ve la faccio più breve comunque ve la faccio rapida rapida sì no non mi interrompere allora guarda Paolo Legrenzi è uno dei più grandi psicologi e neuropsicologi del paese quindi tendenzialmente ti direi di sì ti chiederei una cosa Ruggero se non è un problema se mi puoi mandare la foto dell'indice perché io ho dall'indice che posso valutare se questo vale per tutte e per tutti ragazzi cioè se voi volete sottopormi un testo differente da quelli che vi ho nominato all'inizio mandatemi l'indice non è per una questione cioè sia chiaro le slide seguire le lezioni le slide vi dà una preparazione sufficiente per capire quali sono gli argomenti però poi è importante avere una base d'appoggio su un libro quindi voi semplicemente potete tranquillamente mandarmi mandarmi l'indice sono su gmail ma anche qua sulla chat di teams Ruggero così non ci so non ci so problemi tra l'altro ragazzi a questo punto ne approfitto vi dico una cosa su se ci sono se avete delle domande che pensate comunque se non so domande private fatele sul gruppo di facebook o su teams così anche gli altri le leggono e ci aiutiamo con insomma uno scambio di informazioni circolare va bene non lo dico più teorie e modelli avete una domanda ci avete una domanda da fare prima che parto allora dicevamo le teorie e modelli è importante che si comprenda la differenza tra questi due termini perché quando io dico che mi sto riferendo a una teoria io sto fondamentalmente riferendomi a una sorta di quadro generale di riferimento per la spiegazione di certi fenomeni ok per esempio la teoria psicologica oggi correntemente accettata è quella che ci sia una relazione di tipo forte tra il sistema nervoso e la cognizione per cui non si dà cognizione senza sistema nervoso questa è una parte della teoria psicologica contemporanea ok un modello invece è un modo che io ho di rappresentare un certo fenomeno non so quanti fisici e quante fisiche c'è in sala però mi avvertoneranno se uso questo esempio qui la teoria atomica è fondamentalmente la stessa non voglio dire proprio da Dalton però insomma si vabbè da Dalton l'idea che ci fosse un mondo fatto di atomi era un'idea abbastanza comune già nel diciannovesimo secolo ma il modello dell'atomo che aveva Dalton era molto diverso da quello che poi sviluppa Thomson un secolo dopo e poi Rutherford sette anni dopo Thomson Bohr Duanni dopo Rutherford Schrodinger nel 26 i modelli hanno come obiettivo quello di darci un'analogia di darci un'immagine che rappresenti un certo tipo di fenomeno uno schema insomma un modello di un fenomeno mirato specifico per esempio io ho una teoria psicologica generale ma ho un modello di come funziona il linguaggio ho un modello della percezione o della memoria è importante comprendere una cosa è molto importante che voi comprendiate una cosa e cioè che le teorie e i modelli cambiano nel corso del tempo cioè hanno una loro evoluzione storica che significa che hanno una loro evoluzione storica beh intanto significa che all'interno della scienza c'è una dialettica storica ok gli studiosi comunicano tra loro e a un certo punto un po' per questioni ideologiche un po' per questioni di moda un po' per nuove scoperte che sono arrivate un po' perché un certo clima predilige certe interpretazioni rispetto ad altre i modelli cambiano e cambiano eventualmente anche le teorie e questo in qualche modo adesso lo vedremo anche all'interno diciamo della storia della psicologia che sto per raccontarvi io fra un po' insomma quello che però è importante da da comprendere è che poi c'è anche un un'evoluzione storica che va di pari passo con l'evoluzione storica all'interno della società uno degli esempi più facili in questo caso è quello che ha a che fare con la psicologia generale stessa ora vi anticipo una cosa che dopo vi spiegherò meglio la psicologia è una cosa che c'è sempre stata cioè non è che le persone non è che gli antichi filosofi del quinto secolo avanti cristo in Grecia non si ponessero delle problematiche di natura psicologica altro che basta guardare Platone Aristotele insomma ma anche prima cioè Anasagora già si poneva tutta una serie di problemi sul fatto che forse c'era un collegamento tra il fatto che c'eravamo uno strumento fisico come la mano e un'intelligenza così sofisticata quindi insomma queste sono delle cose che oggi nel ventunesimo secolo abbiamo riscoperto la chiamiamo embodied cognition la cognizione incorporata è incarnata scusate ora però la psicologia nasce lo vedremo fra un po' molto tardi rispetto alle altre e in particolare quando per esempio nasce la psicologia generale la psicologia nasce la psicologia generale nasce perché vado direttamente qua questa è la prima occorrenza del termine general psychology da Richet che è uno studioso francese uno psicologo francese che però pubblica questo articolo in inglese l'aveva visto lunga l'aveva visto lungo su questo e dice ve la sintetizzo in breve di fatto la psicologia generale deve essere una disciplina che si chiama così perché visto che adesso noi abbiamo la fisica generale la chimica generale la fisiologia generale ci deve sta pure la psicologia generale c'era stato una sorta di rivoluzione all'interno del panorama delle scienze fino ad ottocento in cui ci si era data un'istituzionalizzazione e quindi a un certo punto anche gli psicologi dicono beh se tutti si chiamano materia generale faremo anche noi una psicologia generale e in effetti se voi andate a vedere questa definizione di psicologia generale come disciplina in qualche modo rimane incarnata anche per esempio nelle normative ministeriali che cos'è la mia disciplina MFC01 che cos'è secondo il ministero è è il settore che comprende le competenze scientifico disciplinarie relative all'organizzazione del comportamento delle principali funzioni psicologiche percezione emozione motivazione memoria apprendimento pensiero e linguaggio attraverso cui l'uomo interagisce con l'ambiente ed elabora rappresentazioni dell'ambiente di se stesso comprende altre sigli le ricerche sulla coscienza sulla personalità sulla comunicazione sull'arte e le competenze relative sia ai metodi e alle tecniche della ricerca psicologica sia ai sistemi cognitivi naturali artificiali sia alla storia della psicologia apprende tutto quello che faremo noi tranne forse io non faccio troppa intelligenza artificiale anche se qualche accenno c'è mi dispiace che voi abbiate appena dovuto sentire una presenza che vi accompagnerà per tutte queste cinque settimane che è il mio gatto io non so più cosa fare lui ha capito che quando io sto davanti alla telecamera lui può fare quello che gli pare quindi fa un casino terrificante io non posso fare nulla per impedirlo quindi mi spiace anche nelle registrazioni sentirete sempre questo maao maao sembra che non ha mai mangiato ha mangiato mezz'ora non è vero niente insomma allora detto questo che cosa dobbiamo dire pure dobbiamo pure dire che la psicologia generale cioè le mie discipline è anche un settore istituzionale all'interno della comunità psicologica ci sono degli psicologi me incluso per molti aspetti anche se non sono uno psicologo sono un filosofo di psicologia generale la psicologia generale è riconosciuta come un settore della ricerca psicologica e in particolare che settore? il settore che si occupa di tenere insieme in un quadro teorico ora il termine lo conoscete coerente tutte le diverse prospettive che arrivano dalle sottodiscipline della psicologia ok? infine la psicologia generale e questa è importante perché ci introduce poi alla seconda parte di questa nostra lezione è da considerarsi anche una disciplina di tipo storico perché? perché è come se vi facesse una fotografia di quello che succede a un certo momento all'interno della disciplina cioè quello che io vi spiegherò in queste cinque settimane è come se fosse un perimetro in cui vi dice quello che c'è qua dentro è quello che noi consideriamo la psicologia cioè sono le teorie i modelli che hanno a che fare col funzionamento della mente in questo specifico momento storico cioè nell'occidente europeo del 2021 l'occidente generale insomma anche la verità è che per quanto riguarda la scienza Europa e America non hanno più grandissime differenze tra di loro ci siamo tutti un po' americanizzati ne consegue che è giusto che il ministero abbia messo proprio la psicologia generale tra le materie che necessarie per insegnare perché è la materia più facile nonostante non sia facilissima per apprendere di che si parla in psicologia piuttosto che gli altri settori che vi ho nominato che prevedono delle expertise specifiche ha una funzione epistemologica perché mi dice che cosa è psicologia scientifica e cosa non lo è è una normativa epistemica per i professionisti nel senso se voi andaste da un da uno psicoterapeuta che vi dice guarda ti voglio curare facendo il pendolino ma non è un ipnotista cioè ti voglio curare facendo la danza della pioggia per carità siete sempre liberi di farvi curare con la danza della pioggia però tendenzialmente anche voi dite ma io la danza nella pioggia non è che l'abbia studiata all'interno di psicologia generale quindi forse non è parte della psicologia non so se mi sono spiegato una cosa ve la voglio dire subito io ho usato già spesso questo termine nessuno mi ha interrotto sarebbe bello pensare che tutti quanti già sapete questo termine magari però comunque lo ripeto per chi ci segue ci seguirà dopo o per chi è un po' più timido non ha voluto chiedere che cos'è l'epistemologia l'epistemologia è quella disciplinarmente è quella branca della filosofia che si occupa diciamo dello statuto di verità dei fatti scientifici o del mondo o anche delle stesse verità delle stesse asserzioni filosofiche diciamo che gli antichi greci avevano due modi per dire la conoscenza un modo era episteme e l'altro modo era doxa questi due termini qua qual è la differenza l'episteme è la conoscenza vera la doxa è l'opinione ovviamente episteme oggi non abbiamo la stessa distinzione ma quando diciamo che qualcosa ha un valore epistemologico o ha una rilevanza epistemologica significa che ha una rilevanza un'importanza un criterio grado di accettabilità all'interno di quello che noi consideriamo essere il sapere scientifico per esempio noi l'epistemologia del ventunesimo secolo ci dice che la lo studio ci dice per esempio che le cose cadono in terra perché c'è la forza di gravità questo è un concetto epistemicamente valido nel ventunesimo secolo l'idea che vi vi venga l'influenza perché arriva un virus è epistemicamente valido l'idea che vi sia venuta l'influenza perché il vicino di casa va fatto il malocchio no ok quindi l'epistemologia è la branca della filosofia ve l'ho messa molto volgare che studia le condizioni di verità scientifica da conoscenza ok ed è molto importante tenere a mente che l'epistemologia cambia perché mentre oggi nella nostra contemporaneità è inaccettabile dal punto di vista epistemologico dire che vi è venuto che la personalità di qualcuno è fatta così perché è deoscorpione invece fino al 1600 Galilei faceva un sacco di oroscopi capito anche lo stesso Galilei faceva un sacco di oroscopi questa cosa è importante da tenere a mente ma poi su queste cose storiche vi diletterò fra un pochino quindi epistemologia questo intendo io quando uso questo termine detto questo per entrare poi sulla questione diciamo della storia ma poi fra un po' peggioro facciamo una piccola pausa io tendenzialmente faccio sempre un corso che è integrato delle storie della psicologia e della psicologia in generale perché? perché quando parlo della psicologia spesso parlo della storia della psicologia oggi un po' facciamo la garrellata ma anche quando vi racconto dei singoli modelli delle singole teorie spesso vi racconto il contesto storico in cui si sono sviluppate e come si sono evolute io non penso che si possa fare a meno del contesto storico epistemologico per comprendere la scienza anche perché sia lo storico della scienza che l'epistemologo partono da un assunto che è quello di vivere nella cultura scientifica di oggi e quindi interrogare il passato della disciplina serve a comprendere meglio il nostro presente sapete una cosa che si dice spesso in storia della scienza ha detto un grande studiore che si chiama Toulmin dice lo scienziato che non conosce la storia della sua disciplina è destinato ogni cinque anni a rinventare la ruota e quindi è molto importante sapere da dove veniamo perché è il modo più importante per capire dove andiamo o perché siamo arrivati proprio qua per esempio questa è una cosa che insomma come dire in questi anni particolari dovrebbe anche risuonare in una maniera un po' diversa per quanto riguarda la questione storica della psicologia ci sono anche tutta una serie di cose che andrebbero considerate per esempio la maggior parte della storia della psicologia è protostoria della psicologia è preistoria della psicologia ma non è storia perché? perché la psicologia nasce tardissimo Ebbinghaus uno dei grandi padri degli studi sulla memoria scrisse in un libro dell'introduzione dice la psicologia ha un lungo passato ma ha solo una breve storia perché? perché vedremo fra un po' la psicologia ufficialmente la psicologia scientifica nasce addirittura nel 1879 cioè è tardissimo all'Ipsia se voi pensate che la scienza moderna la fisica moderna la possiamo datare a Galileo quindi alla prima metà del 600 sono passati 200 anni in cui nel frattempo la fisica aveva fatto passi da gigante la chimica aveva fatto passi da gigante persino la biologia che non è che sia meno complessa la psicologia anzi persino la biologia tendenzialmente la facciamo risalire all'opera di Darwin quindi comunque vent'anni prima la psicologia nasce molto in ritardo e nasce in ritardo come tutte le scienze che nascono in ritardo corre anche a fare una cosa che storicamente è molto scorretta e molto sgradevole cioè comincia a fare la storia dei medaglioni che cos'è la storia dei medaglioni o la wig history la chiamiamo pure in storiografia della scienza è quella storia che dice sono arrivato fino a qua invece di dire che non è che sono arrivato fino a qua ma che vivo all'interno di un contesto storico culturale che mi permette o non mi permette di fare alcune cose dico che io sono il punto di arrivo di una lunga tradizione e quindi che faccio vado a ritroso a raccogliere tutte quante le persone le persone che mi sono utili per giustificare la mia posizione fino a oggi questo è un classico della ricostruzione storica se voi ci pensate se voi leggete un manuale storia delle medie su cui lo insegnerete che cosa troverete scusate se i filosofi e le filosofi che l'avranno sentita centomila volte questa cosa qua o anche gli storici voi trovate una ricostruzione che giustifica il punto in cui siamo adesso no? quando noi sappiamo le cose sarebbero potendo andare diversamente o comunque in ogni caso non è giusto rileggere la storia per giustificare il punto dove si è ecco io su questo in particolare nel corso del tempo per una serie di motivi miei anche di studio sono diventato sempre un po' più rompiscato nel senso che la psicologia ha una storia molto particolare non vi anticipo ve lo faccio vedere dopo nella carrellata dopo a un certo punto vi porrò una domanda però io ritengo in linea con un grande filosofo che era Walter Benjamin che lo storico materialista e immaterialista storico io so entrambe le cose considera suo compito spazzolare la storia contro pelo per cui nella storia della psicologia che vi presenterò anche durante il corso io in realtà vi parlerò anche di un sacco di gente che nei manuali ufficiali non c'è non perché non siano scienziati ma perché non erano gli scienziati che hanno vinto perché penso che la storia sia fatta della gente che ha vinto e della gente che ha perso ok quindi sulla base di questo cercherò di proporvi una lettura critica della storia della psicologia e che in cui ci saranno anche parti legate alla storia della neurologia e delle neuroscienze però detto questo interrompo un secondo la condivisione e intanto vi chiedo no non volevo alzare la mano io volevo vedere se ce ne erano le mani alzate ci sono delle ci sono delle domande adesso me dovreste anche essere non so spero ritornate a vedere mi vedete adesso no non vedete niente adesso mi vedete oh eccomi qua perfetto allora ci sono delle domande ci sono delle osservazioni volete andare via già che è una cosa legittima capisco dite voi se no facciamo due minuti di pausa proprio bevo un bicchiere d'acqua faccio l'ultima sigaretta niente domande neanche per iscritto cioè Elena che ha detto pura verità non 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 imparerete ad amarle e odiarlo insieme a me non vi preoccupate questo è un grande classico va surga surga no non 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 ma poi lui ogni tanto appare pure nel senso però c'ha questa cosa qua vabbè siamo in una guerra molto forte perché lui sta diventando un po' come di pingue con che gli dava un sacco di umido perché lo viziavano ultimamente poi magari dici sai sto qua con lui lo vizio così solo che adesso ha deciso visto che l'umido è così buono croccantini ne mangia più solo che capito il veterinario ha detto guarda pure i reni non è che gli fa benissimo tutto stumido e allora siamo tipo in questa guerra di posizione per cui io non mi faccio impietosire ma lui è passato fondamentalmente all'agitazione propaganda cioè ha capito che quando sto facendo lezioni lui può cominciare a fare una volta il mio student mi ha detto ma che lo stanno torturando sembra quello insomma invece sto qua Cristina che dici no Cristina è una e qualcun'altra ha alzato la mano Cristina vai Cristina Alessia brava Mattia hai detto vai per dire conoscenza si doxa che vuol dire doxa che vuol dire l'opinione ok no figurati allora va bene ragazzi vado a bere un bicchiere d'acqua e ci vediamo fra 6 e 10 va bene ah no aspetta c'è Alessia c'è Alessia ferma scusa Alessia sì lezione per lezione lezione per lezione però mi dovete però mi dovete fare una promessa questo lo taglio dalla registrazione ho scoperto che mi hanno venduto tutte le slide a Doc City per soldi vi prego non vi vendete le mie slide io le metto gratis sempre gratis a tutte non vi rivenete vi supplico solo questo però sì ve le metto tutte quante Valentina sì chi ha detto guarda se un professore dopo uno scritto dice che non può rinunciare al voto tu ricorda che uno che c'è stato il 68 due che c'è una legge che dice che non lo possono fare certo che può rifiutare il voto il voto si può rifiutare sempre perché stava al 700 che so l'inquisizione adesso l'inquisizione l'ho giudicato quando sentite queste cose andate dai coordinatori della vostra macroarea e leggete il regolamento dello studente c'è scritto che voi potete sempre rifiutare le cose e chi non lo fa è un barone che dici sì 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 ma io sto qua apposta sì penso a me sì si si chiama minaccia penso che penso che sia una fattispecie di reato penso che sia un ricatto non lo so non lo so io ci credete che non mi sono mai trovato in questa situazione non capisco se è un problema mio che so facilone sì eh se io non avessi la possibilità che pure il morale mi va male e il professore va via e io devo fare per forza con l'altro docente la parte dello studente mi viene eliminata o ma allora tendenzialmente su questo abbiamo libertà su questo abbiamo libertà ok nel senso io non io ci abbiamo libertà e tendenzialmente non lo fa nessuno Cristina per un motivo anche molto semplice io non conosco né gli standard didattici da un collega né gli standard di valutazione cioè per farti capire io e Carmela Morabito lavoriamo insieme nello stesso ufficio facciamo le stesse cose se apparteniamo alla stessa scuola di pensiero il mio esame e il suo esame sono due esami differenti ma molto differenti perché le lezioni mie sono differenti anche se parliamo delle stesse cose perché il modo di valutazione le modalità di valutazione sono altre per esempio lei fa un test a risposta multipla e poi fa un'integrazione orale sulla base a risposta multipla io invece insegnando al PF24 faccio un aperto perché mi rendo conto che magari ci sono persone che vogliono effettivamente esporre quello che pensano però per esempio tanti colleghi vostri vengono da scienze o hanno fatto o fanno il dottorato in matematica e magari l'ultima volta che hanno scritto un tema era al quinto superiore quindi cerco di venire incontro ma gli esami sono molto differenti cioè noi quando abbiamo casi del genere magari ci possiamo confrontare però di solito se cambia il docente devi rifare l'esame il mio scritto il mio scritto lo rifiuto a quando ti pare no in generale sì no no assolutamente voi potete sempre rifiutare il voto in un esame c'è sta scritto nel regolamento degli studenti nazionale ed ed è torvergata se eh se vi dicono il contrario gli mandate il link fate questo è il link guarda leggi ha firmato il rettore vogliate che vado al rettore fate così fate così fate così e di che ci vediamo fra due minuti bevo bevo io sì ho risentito distanza sempre distanza sempre orale perché i turni i turni Giulia ma Giulia ma sei tu ciao Giulia come stai sei ritornata qua ancora a torvergata sei tornata ci conosciamo da tempo e in presenza ragazzi io normalmente faccio l'esame a scienze di solito ho laureato a 300 posti se fanno i turni se sta lontano figurati io ho fatto lezioni in presenza cioè la prima parte del semestre ho fatto lezioni in presenza ho 25 persone su 50 frequentanti 25 hanno scelto che stavano fuori di resta fuori al 35 sono venuti è andato tutto bene non c'è stato un caso di contagio assolutamente pensate che una persona si è ammalata di covid del mio gruppo classe e nonostante abbia frequentato il giorno che si era preso il covid nessuno si è nessuno si è preso niente mi ha fatto tutti i tamponi no 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 cioè comunque io mi auguro anche che insomma come di anche voi io mi auguro che qualcuno di voi già l'abbia fatto mi auguro che presto veniate vaccinati anche voi perché insomma io ho un grandissimo rispetto degli ottantenni figuriamoci sono molto ottantenni in categorie fragili però poi a un certo punto no per esempio ho sempre detto che mi avete fatto vaccinare a fa a me no perché mi sono dovuto vaccinare l'ho fatto per carità pensavo che sarebbe stato l'inizio di una svolta poi vi sono dopo i docenti è finito tutto quanto ma se fai vaccinare i docenti e non fai vaccinare gli studenti comincia a che c'è poco senso la questione comunque parte questo riprendiamo riprendo con la condivisione delle slide sì la differenza tra funzione epistemologica e funzione informativa epistemica sì allora la funzione epistemologica è la funzione che la psicologia generale ha nei confronti degli studiosi cioè quando io voglio dire guarda voglio fare una ricerca in psicologia devo andarmi a confrontare con quello che la psicologia generale dice essere psicologia ok Giulia ci sei su questo la funzione normativa epistemica è quello che invece dice al professionista cioè allo psicoterapeuta allo psicologo clinico che cos'è che si può fare e cosa non si può fare in rapporto all'epistemologia è l'esempio che ti facevo prima cioè tu puoi andare da uno che ti cura con l'oroscopo però non sta facendo psicologia ok questo è il discorso ok io conosco persone che hanno psicoterapeuta che fanno l'incenso però nel senso come dire lo sai lo puoi fare però non è psicologia ok è semplicemente questa cosa qui è importante anche perché comunque dovete immaginare che intorno alla psicologia ci sono anche tutta una serie di figure più o meno valide più o meno coerenti uno su tutti i counselor no ci sono dei counselor che sono counselor anche molto preparati ci sono dei counselor che invece sono fondamentalmente degli sciamani una specie dei santoni del ventunesimo secolo i counselor più validi si rifanno al quadro normativo epistemico che è detta la psicologia quindi operano in linea con questo poi gli psicologi li odiano perché gli rubano il lavoro ma questo anche qui è un altro discorso se ci siete io riprenderei con le slide e passerei a questa diciamo carrellata storica sulla storia della psicologia va bene allora finestra dell'applicazione psicologia eccoci qua adesso datemi datemi conferma che ritornate a vedere le slide conferma audio ok perfetto perfetto allora ragazzi se proprio uno vuole cominciare a fare una riflessione ovviamente oggi la butterò ma anche molto a ridere perché la storia è molto bella affascinante ma per godersela bisogna anche entrare un po' nel dettaglio io purtroppo non ho tutto il tempo che vorrei si fanno i corsi apposti della storia della psicologia separati comunque diciamo che la prima vera considerazione che si è cominciata a fare rispetto alla mente addirittura al cervello è questa qui questo è il cosiddetto papiro di Edwin Smith che è datato intorno al 1600 a.C. scusate se ogni tanto vedete bce io adesso adesso dico avanti Cristo per comodità e comprensione però a volte mi potreste sentir dire prima dell'era comune o dell'era comune perché è la notazione standard un po' più corretta comunque il papiro di Edwin Smith circa 1600 anni prima di Cristo oggi è conservato alla Medical Academy di New York ed è il primo testo che parla intanto del cervello e che poi parla in realtà anche del comportamento ora nella traduzione che tra l'altro trovate facilmente su archive.org viene raccontato di che si parlava fondamentalmente è una sorta di elenco di casi clinici di gente che è tornata dal fronte della guerra ora la guerra già non è una cosa bella di per sé neanche oggi però tendenzialmente la guerra del passato era una cosa atroce perché era particolarmente pesante morire con la testa scamazzata da una lancia da una spada e in particolare nel caso 6 di questo papiro a un certo momento c'è questo medico che dice se vedrai la testa di un uomo aperta con sotto una sorta di tessuto che sembra fare gli stessi ghirigori del rame quando fonde sta parlando delle circonvoluzioni cerebrali e vedrai che ci sono dei problemi nel modo in cui si muove nel modo in cui si parla o sembra essere assento o addormentato sappi che la ferita è grave e poi aggiunge dopo con questa nota di ottimismo tentativo di cura lascialo lì fondamentalmente dice lascialo laddostà fate gli affari tuoi intanto non ci sta cura non si può fare niente il papiro di Adam Smith è importante perché ci dice una cosa che anche se poi questa relazione si è persa in realtà con molta serenità alcuni diversi osservatori si erano resi conto che c'è stato un collegamento tra il cervello e quantomeno il comportamento quanto meno quello che poi si chiamerà mentale questa cosa io ritengo che sia molto interessante non soltanto perché diciamo è un po' l'atto fondativo di quegli studi o di quella sì gli studi sul cervello che poi diventeranno così importanti a partire dall'ottocento anche per la psicologia come vi dicevo prima la psicologia oggi è essenzialmente una psicologia neuroscientificamente informata cioè che pensa che senza il cervello non si possa dare cognizione o comunque senza un suo strato fisico perché poi l'intelligenza artificiale ci ha mostrato che noi possiamo anche provare a replicare come funziona un cervello per farci girare sopra un'intelligenza artificiale però questo è anche interessante secondo me perché perché ci dice una cosa molto bella cioè che nel 1600 avanti Cristo in Egitto che comunque all'epoca diciamo come dire era un po' gli Stati Uniti d'America del mondo cioè avevano come dire la cultura molto sviluppata questi grandi sistemi social-socioculturali pagati ovviamente con la schiavitù però c'era un certo tipo di conoscenza se voi andate dall'altra parte del Mediterraneo appena nel VII-VI secolo cioè mille anni dopo invece di trovare un un panorama scientifico sul cervello e mente che avanza rispetto a quello che saranno già degli egiziani trovate il mondo dei buffi in che senso nel senso prima di leggere il testo guardate questa guardate l'immagine questo è un basso rilievo che raffigura un rito di incubazione sapete da cosa deriva la parola incubo deriva dal fatto che quando tu stavi male che cosa facevi andavi all'asclepeion c'è al tempio di di asclepio di esculapio il dio della medicina dove il sacerdote diceva no guarda non mi serve che mi dici che c'hai poi a un certo punto cominciano a farselo dire perché fanno delle tavolette votive però fondamentalmente si diceva ai pazienti guarda vatti inseri nel cubicolo c'è una piccola stanza con sopra un letto fondamentalmente di pietra mettiti là a dormire e poi nel sonno arriverà il dio e incuberà la soluzione in che senso che la tua mente nel sonno insieme al dio ti diranno che cosa qual è il modo per guarire ovviamente vi potete immaginare che la percentuale insomma di successi terapeutici era fondamentalmente paragonabile alla stessa del sistema sanitario lombardo sotto il covid moriva un sacco di gente però questo è importante da un punto di vista culturale perché perché ci ritroviamo già per esempio a poter desumere una serie di cose interessanti del tipo che cos'è la mente per la Grecia prima della grande rivoluzione del quinto secolo cioè prima della nascita della filosofia socratica e post socratica è una specie di componente magica dell'essere umano è quella che parla con gli dèi è quella che durante il sonno che su cui già era Clito aveva scritto delle cose meravigliose aveva detto il mondo privato di ciascuno di noi nel sonno c'era questa componente di ripetazione magica che ti diceva se guarivi o meno ovviamente poi Freud c'è sguazza in tutto questo più avanti ma in un grande recupero la verità è che fondamentalmente nella psicologia nella protopsicologia prima quantomeno di Platone non ci sono né riferimenti al cervello né riferimenti lo vedremo fra un po' alla mente in generale non so se l'ho messa queste parti nelle slide fatemi vedere no queste non l'ho messa ve lo dico io al volo poi magari ve ne parlerò quando riparlerò della coscienza considerate che se voi leggete Omero non esiste la parola psiche non esiste la parola psiche in realtà non esiste nessun termine equivalente a mente infatti i greci avevano tutti i modi strani per di mente per esempio dicevano Tumos che però il Tumos stava nella pancia oppure dicevano Frenes che però erano i volmoni cioè era tutto Pneuma che era il soffio vitale però non ci stava un termine per dire la mente in realtà il termine per dire la mente dopo il quinto secolo cioè psiche è la traduzione letterale di una cosa che assomiglia ha il soffio vitale ok cioè un corpo vivo ha la psiche e invece un corpo morto è solo un soma cioè un corpo morto perché non c'ha più la psiche questa cosa comincia a cambiare intanto a livello culturale intorno al quinto secolo ma poi perché a un certo punto arriva un big player sulla scena della medicina greca che è ovviamente Ippocrate di Kos che è coevo di Platone ovviamente Ippocrate di Kos si sarà esistito un Ippocrate di Kos però quando noi pensiamo al corpo delle opere di Ippocrate al corpus Ippocraticum in realtà sappiamo che sono tanti autori che si firmano Ippocrate in particolare c'è uno pseudo Ippocrate che scrive un testo che è un testo importantissimo nella storia della psicologia e delle neuroscienze che si chiama sulla malattia sacra da morbo sacro in questo saggio lo pseudo Ippocrate dice sta parlando di una malattia io non amo molto fare le diagnosi in retrospettiva però diciamo che tendenzialmente c'è buona probabilità che sia l'epilessia sta parlando dell'epilessia ora l'epilessia io non so se qualcuno di voi ne soffre ne ha sofferto conosce persone che ne soffrono è una malattia in effetti un po' strana no? perché? perché a un certo punto arriva come un attacco improvviso di convulsioni se c'è il grande male oppure addirittura con uno svenimento se c'è il piccolo male e in effetti i greci che come abbiamo visto fino a poco tempo prima curavano l'appendicite dicendo alla gente fatta una pennichella effettivamente quando vedevano questa cosa qua si spaventavano tantissimo diciamo oddio questa addirittura c'era un'interpretazione riguarda adesso la scena la raccontava una bravissima antichista dell'università della scuola normale di Pisa addirittura avevano una parola che è bletoi che erano che letteralmente tradotto vuol dire i colpi il colpo cioè nel senso proprio quando dice che te prendesse un colpo e bletoi erano le frecce che Apollo mandava alla gente per fargli venire l'infarto l'ictus o per l'appunto l'epilessia e quindi tutti lo chiamavano la malattia sacra e come la curavano la curavano come la curano ancora oggi all'interno di alcune dimensioni tribali dell'Africa questo lo so per aver assistito a questo l'epilessia si cura mettendo dal collo una specie di santino in Africa si fa con dei passi del corano nell'antica Grecia non so insomma cosa ci fosse dentro comunque fondamentalmente la sicurava con dei talismani e Ippocrate in questo testo dice ma io non capisco voi perché esattamente questa malattia la chiamate sacra cioè che c'ha questa malattia di più sacro delle altre perché la malaria con la febbre che ti arriva ogni 3 o 4 giorni precisi è meno prodigiosa che cosa c'ha un'eruzione coetanea un tumore particolare di meno prodigioso dell'epilessia la verità è che voi lo chiamate morbosacro perché non sapete curarlo e quindi non sapendo curarlo dite che è una cosa magica ma in realtà se voi foste veramente persone che studiano le cose voi dovete sapere che la medicina ipocratica era basata sugli umori sul bilanciamento dei quattro umori era pseudoscienza rispetto agli standard di oggi però ipocrat era un grande cioè ipocrat era uno che aveva capito che la dieta impattava tantissimo sulla tua salute e che persone che nascevano in posti differenti e mangiavano e bevevano e respiravano ambienti differenti avevano malattie differenti tu vallo a capire questa cosa qua inoltre a un certo punto ipocrat dice la verità è che la malattia sacra quella che voi chiamate la malattia sacra è una malattia del cervello che è la sede della psiché che è il messaggero dell'anima che è quello che ci fa essere pazzi quando usciamo di senno sani quando stiamo bene che ci fa ridere che ci fa piangere che ci fa pensare che ci fa essere noi stessi questa cosa ovviamente era probabilmente basata su una serie di osservazioni che erano state fatte no? cioè simili a quelle fatte dagli egiziani cioè gente si era resa conto a un certo punto che se ti succedeva qualcosa in testa non eri più la stessa persona quindi il collegamento usciva fuori però il demorbo sacro lo mette nello su bianco e questa è una cosa molto importante perché perché l'idea che la mente stia nel cervello la recupera Platone ora io non vi sto a far la storia precisa di tutto questo che è anche molto affascinante perché Platone comunque ha anche una sua psicologia tripartisce l'anima e questa tripartizione dell'anima è così importante che addirittura Freud ne è debitore ce lo riprende molto più avanti Freud fatto sta che Platone aveva anche tutta una serie di motivi per considerare per l'appunto il cervello come la sede dell'anima d'altra parte il cervello è la cosa che sta più in alto sapete che Platone era abbastanza come diceva una visione del mondo particolarmente piramidale quindi tutto quello che stava in alto andava bene Aristotele al contrario pur essendo considerato da molti il primo autore di un testo psicologico il De Anima Aristotelico in effetti è un libro sul comportamento invece per tutta un'altra serie di motivi in certi aspetti anche essi ideologici culturali anche di risposta a Platone stesso dice no non è possibile che il che il cervello sia la sede della mente per due motivi essenziali il primo è che il cuore è primum vivens ultimum moriens quindi se è il primo organo che si forma è l'ultimo che quando smette di batte determina la fine della tua vita poi è centrale è caldo batte sta là figurati se non è quello poi chi ha mai visto qualcuno sopravvive senza cuore in effetti sai mettere così facendo una piega la seconda la seconda constatazione è quando a un certo punto dice no però io sapete questa cosa la posso dar per certa perché io ho aperto un cervello l'ho toccato ed è freddo e visto che il principio vitale è sempre caldo il cervello non è la sete dell'anima è solo una sorta di radiatore per le passioni non usa questi termini ma il significato è questo ovviamente Aristotele omette di dire che aveva sezionato sì una cosa ma era una tartaruga e le tartarughe sono degli animali a sangue freddo e hanno una temperatura un po' differente della nostra quando le squartia anche e soprattutto però al di là di questo rimane questa querella tra i cosiddetti encefalocentristi che hanno Platone e Ippocrate come campioni e Aristotele e i cardiocentristi ok la situazione sto correndo troppo io scusate non vi vedo perché ho le slide davanti in questo terribile come dire teta teta con me stesso però se ci sono ti apposto? grazie voi ogni tanto fatemi una voce giusto per come di per non farmi sentire eh Major Tom di David Bowie capito? che parlo da solo insomma è tutto qua solo questo grazie dunque sì è fantastico quel libro fantastico eh sì sì quello è un libro che io consiglio sempre a tutti grazie l'hai tirato fuori prima tu chi vuole approfondire meglio il mito della razionalità greca e vedere quanto c'era di irrazionale nella Grecia deve leggere Eric Dodds cioè i greci e l'irrazionale tra l'altro vi faccio notare una cosa perché tanto ne uscirà fuori anche quando parleremo della coscienza c'è un fil rouge che lega l'irrazionale della Grecia anche con alcune parti della psicologia che per molto tempo abbiamo guardato con sospetto perché c'erano paura che fossero per l'appunto una sorta di irrazionalità i riti delle baccanti le tarantate della Puglia e le isteriche e Charcot stanno facendo tutti la stessa cosa cioè è molto importante questa cosa da tenere a mente ovviamente poi con dei fattori culturali con testo di direzioni culturali molto diversi ma c'è una grande profonda irrazionalità poi non so tu Giulia cosa studi e perché stai leggendo Dots però per esempio questa è una cosa che di solito anche gli studenti di filosofia conoscono molto bene perché poi c'è tutta una ripresa di queste tematiche anche ad esempio Danice tanto per dirne una grazie di aver fatto un grandissimo assist apprezzo molto e buona lettura perché l'ho amato molto Dots se io sì sì assolutamente assolutamente e poi è anche vero Giulia se ci fai caso visto che hai tirato fuori questa questione della critica al patriarcato che fa anche Dots nella cultura greca facci caso che tutti i casi che io ti ho detto prima cioè sia le baccanti sia le tarantate sia le estetiche di Charcot guarda caso replicano tutte quanto uno stesso schema in cui ci sono delle ufficianti che sono delle donne che portano su di sé la colpa della malattia mentale spesso dell'intera società e ci sono dei sciamani che sono degli uomini no il sacerdote delle baccanti il conduttore o il prete durante il conduttore della danza dei tarantati Jean-Martin Charcot nel caso di essere ricasa al petriere poi vi consiglierò e ti consiglierò altri libri su questo tema se ti interessa comunque per adesso grazie ritorno un attimo all'altro grande protagonista della classicità va bene? allora il terzo protagonista del periodo classico è Galeno che in realtà è un medico imperiale un medico dell'impero romano è turco ed è però un grande sperimentatore addirittura George Kangiem nella scoperta del concetto di riflesso dice che Galeno fece un olocausto dei tori è importante questa cosa di tori cioè lui non aprì mai un essere umano questo non vi sto a spiegare perché ma diciamo che solo Alessandria d'Egitto c'era stato il permesso per una cinquantina d'anni di fare di praticare la vivisezione su sulle persone per motivi scientifici questo perché i tolomaici erano molto fomentati con la scienza e a un certo punto avevano fatto una legge in cui dicevano che se eri stato condannato a morte tanto valeva che te davano agli scienziati così capivano meglio come curare le persone però la verità è che nel mondo greco romano è visto malissimo l'apertura del il contatto con i cadaveri quindi anche i medici studiano fondamentalmente i tori le mucche i maiali e Galeno ci dà sotto intanto dice una cosa scrive un libro molto bello che si chiama De Placidis Hippocratis Platonis cioè il lascito di Hippocrate di Platone e si ritrova a sostenere a dire guardate Aristotele sbaglia non è il cuore la sede è il cervello perché lui ci arriva attraverso tutta una serie di considerazioni anche logiche Galeno è anche un grande logico scrive un trattato di logica molto interessante e a un certo punto dice poi io che ho aperto un sacco dei corpi vi posso dire una cosa io ho un modello preciso di come funziona l'anima la psiche perché la psiche passa per il fegato proprio come aveva detto Platone poi a un certo punto va nel cuore e qua su questo c'aveva ragione anche Aristotele e poi passa attraverso una struttura che è fatta a rete che sta proprio dietro al cervelletto e lì quegli spiriti attraverso il sangue diventano spiriti animali cioè spiriti dell'anima ok tenete a mente intanto il termine spiriti animali perché muo ritorna tantissimo una specie di 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 leitmotif di tutta quanta la psicologia la filosofia soprattutto del 600 cartesico sta in fissa con questo concetto però tenete anche a mente una cosa questa struttura reticolare dietro il cervello che Galeno chiama la rete migrabile perché è quella che ci permette di avere i pensieri di essere diversi dalle piante e dagli animali è una struttura anatomica esistente nei bovini nel senso che è una piccola membrana reticolare che serve a sorregge il cervelletto considerata la la posizione del sistema nervoso centrale dei bovini e questa cosa qua della rete migrabile è importante è molto importante tenetela a mente ritorna ritorna veramente fra pochissimo ora detto questo c'è Galeno e siamo nel Galeno muore nel 210 e fondamentalmente uno si aspetta dice no vabbè comunque se dai se Galeno dopo 600 anni di trattazioni litigate ha detto la rete della mente e il cervello da adesso in poi anche noi continueremo a credere questa cosa qua in particolare poi Galeno aveva un sistema molto figo perché Galeno effettivamente i cervelli li aveva aperti in particolare che aveva fatto una cosa poi domani durante la lezione del sistema nervoso lo capirete meglio Galeno aveva notato una cosa cioè aveva notato che nel cervello ci stanno degli spazi vuoti effettivamente nel cervello ci sono degli spazi vuoti quando muori nel senso che i ventricoli che sono delle sacche che servono a mantenere un determinato liquido che è essenziale al metabolismo cerebrale quando muori si svuotano se disseccano e quindi gli altri ti sembrano degli spazi vuoti ora voi non so se sapete questa cosa cioè tendenzialmente il mondo classico ha l'orrore del vuoto l'orrore vacui cioè dove c'è una cosa vuotata deve riempire perché il vuoto è brutto è naturale ora quando Galeno apre i cervelli e vede che ci stanno queste parti vuote dice beh se questi spazi erano vuoti evidentemente qua dentro prima c'era qualche cosa non è che la natura fa uno spazio vuoto allora visto che lui ne vede tre in realtà i ventricoli sono quattro però diciamo che il cervello è domani ne parliamo bene è un organo molto particolare è difficile vedere le cose come stanno davvero ed è molto facile buggerarti da solo se sei convinto di vedere una cosa tendi a vederla anche perché di fatto io non so se qualcuno di voi l'hai mai visto un cervello però è una specie di spugna molliccia non è non è né bello da vedere né facile da studiare quindi Galeno c'era tutto questo sistema che era un sistema chiamato sistema ventricolare cioè lui diceva il buco vuoto che sta davanti visto che sta davanti che ci starà ci sarà la prima cosa che entra nel cervello quindi la capacità di percepire il mondo sta là poi la capacità di ragionare starà nel buco che sta in mezzo perché io devo percepire il mondo per poterci ragionare sopra e infine nel terzo ventricolo quello più in coda che cosa ci sarà ci sarà la memoria perché l'asta al fondo è dove accumulo quello che ho percepito e ragionato capito nel senso c'era pure una certa eleganza era pure bello come sistemino c'era un sistemino che funzionava tanto fatto sta che a partire da queste considerazioni uno dice beh adesso comincerà una storia insomma di questo tipo che aumenta le conoscenze su mente e cervello in realtà no perché succede una cosa che è la cosa che tutti sappiamo succedere cento anni dopo la morte di Galeno cioè l'impero romano diventa cristiano e ora io non io non sono una persona interrompo un attimo con questo pezzo tanto ce l'ho ce l'ho senza slide perché in realtà è solo una una contestualizzazione che voglio farvi così io non non sono una persona religiosa ma insomma come dico mi trovo sempre molto bene con le persone religiose a prescindere dalla loro fede ma comunque nel senso tendenzialmente lo rispetto c'è una cosa importante da capire però sui cristiani sui primi cristiani in particolare i cristiani che si installano intorno al IV secolo nell'impero romano avete mai visto il film Ipazia quello sulla filosofa Alessandrina non so se è mai capitato mi sembra che l'attrice si chiami Rachel Weiss ma io sbaglio sempre il nome quindi su questo non posso essere sicura comunque è la storia di come muore questa grande filosofa Ipazia è una filosofa donna e perché muore perché fondamentalmente a un certo punto i cristiani di Alessandria decidono che loro devono bruciare tutto quanto che quella filosofia fa schifo perché finalmente è arrivato Dio e quindi non ci serve più niente i cristiani dell'origine erano molto integralisti facevano gli stessi discorsi che fa l'Isis non è veramente fanno gli stessi discorsi che fa l'Isis cioè dobbiamo distruggere tutto perché adesso è arrivato Dio quindi non ci interessa più niente quello che c'era prima un filosofo cristiano della prima cristianità Tertulliano a un certo punto scrive un saggio che dice ma io che me ne devo fare di Platone e di Aristotele quelli sono nati prima di Cristo ma che ne vogliono sapere della verità loro allora secondo me dovremmo ammazzare tutti quelli che professano queste cose e bruciamo tutti i libri ci deve stare solo la Bibbia ora beh Tertulliano non gli danno ragione ma vi spiego anche perché però fatto sta che voi dovete capire che quando il cristianesimo diventa religione del Stato tutti quelli che fino a prima avevano portato avanti un discorso culturale si ritrovano che devono passare una specie di test del tipo quello che sto dicendo io va bene per loro perché se non va bene mi bruciano e alla fine molte cose non vanno bene Democrito è un materialista non va bene Catullo gli piaceva troppo fa sesso quindi non va bene a quell'altro gli piaceva troppo il vino quindi non andava bene quell'altro aveva detto che le divinità sono cinque quindi doveva morire diciamo che il clima diventa il clima culturale si abbassa a livello non so prima serata direte 4 immediatamente nessuno parla di niente che non sia questa grande ossessione che c'ha il mondo per per la figura del divino attraverso il cristianesimo che è anche una figura molto particolare perché perché se tu c'hai un dio che è stato tutta la vita a dirti vabbè non che avessero compreso molto bene il messaggio di Gesù Cristo probabilmente però un dio che ti aveva detto tutta la vita guarda che questo non è la vita vera la vita vera viene dopo e te lo dimostrerò come morendo nel corpo ma risorgendo come dignità tu capisci che c'era capite che c'era un po' un problema rispetto a questa questione del corpo e dello studio del corpo Andrea e Nicole allora dipende molto dall'imperatore che sta governando in un certo momento storico c'è una differenza legata anche molto a quanto per esempio pensa al periodo in cui c'è Giuliano Lapostata che a un certo punto capito c'è il grande rifiorito il problema però si è una standardizzazione ma in realtà è una standardizzazione impossibile se non per Plotino che infatti diventa un grande filosofo capito che i cristiani amano tantissimo perché se tu vai a guardare che tipo di filosofia c'è quando l'impero diventa cristiano ci sono gli stoici e gli stoici tra l'altro nell'impero romano è Seneca quindi uno che pratica bene razzola male sta sempre a far feste i cinici gli epicurei che male che erano proprio il male assoluto i sensi poi erano pure democritei quindi pensavano che il mondo era fatto di materia te prego quindi non è che era una standardizzazione diciamo che a un certo punto c'è proprio una battaglia dialettica una negazione in cui i cristiani dicono noi non vogliamo più avere niente a che fare con la vostra filosofia poi dopo un po' sono costretti a recuperarla perché entrano in contatto col principio di realtà cioè si rendono conto che il mondo non può essere retto da uno che va avanti e che legge i sermoni nell'attesa del suicidio di massa ma che la società deve andare avanti quindi c'è bisogno di medicina c'è bisogno di regole che spieghino come funziona il mondo quindi riprendono quello che possono da Platone e da Aristotele Platone attraverso Plotino e dicono questo è quello che va bene che poi è quello che c'è rimasto a noi di Platone e Aristotele nella maggior parte dei casi vedi il nome della rosa per capire no? ok? alcuni filosofi classici vengono conservati vengono anche inseriti all'interno del sistema di... vengono cristianizzati ok? cioè Platone non fa niente che era pagano era pagano perché non aveva capito perché Cristo è nato dopo però l'idea che ci sia il mondo come diceva lui può andare bene per noi poi loro lo sistemano in una in una filosofia molto bella molto complessa e molto articolata che noi chiamiamo la filosofia medievale o filosofia scolastica che è un sistema fantastico esattamente il sistema aristotelico è l'altra gamba su cui si posa la scolastica se tu vai a vedere tutta la logica scolastica è tutta parte tutta quanta Aristotele ma anche tutta una serie di per esempio concezioni su come funzionano gli animali la riprendono paro paro da Aristotele perché è l'unico che l'ha studiato era come era proprio un comitato di censura fondamentalmente la prima parte del mondo cristiano è lo possiamo accettare questo? sì lo dobbiamo cancellare lo cancelliamo il problema come vi dicevo prima Gabriele scusa è un solito risposto André il ragionamento percezione davanti ragionamento memoria ok però è importante che tu rifletti sul sistema dei ventricoli cioè il fatto che lui pensa che i ventricoli sono la sede della memoria perché per esempio anzi rispondo pure a quello che mi ha detto André Nicola adesso per esempio Nicol Nicol vabbè Nicol quello che diceva Nicol e cioè il sistema dei ventricoli per i cristiani va benissimo anzi ne faranno una grande loro fondamentalmente passeranno circa beh dal 400 al 1500 quindi sono 1100 anni a far disegni dei ventricoli e i vari filosofi anche filosofi importanti Guglielmo da Ockham Alberto Magno fondamentalmente diranno no ti sei sbagliato i ventricoli sono tre però all'interno le facoltà sono due oppure quello diceva no i ventricoli sono quattro ognuno però nessuno si spostava realmente dal principio che Galena aveva detto quello quindi Galena andava bene il principio medievale di conoscenza oltre a essere descrittivo e classificatorio è ips ed ixit ha detto Platone è così ha detto Aristotele è così ha detto Galena è così perché devo andare in forma meglio lui lo studiava io no lo sa lui questo c'è scritto questo è lecito questo è la conoscenza se poi questa cosa aveva la conoscenza aveva a che fa col corpo allora entrava in gioco un principio che per noi oggi anche per chi di voi è cristiano che sia cattolico protestante è un principio fondamentalmente inaccettabile cioè il contemptus mundi magari qualcuno ce l'ha comunque per rispetto però nel senso mi sembra un po' strano contemptus mundi è proprio quello che dice la parola cioè lo schifo il disprezzo per il mondo i cristiani quando ti ammalavi erano contenti dicevano ugo ti è venuta la peste ma non sei felice che fra un po' abbracci il nostro signore di che c'è stefa questa è una valle di lacrime il corpo è schifoso l'ha fatto satana è il peccato è la tentazione che ci devi fare con questo corpo non sei contento di morire questo è il motivo per cui la medicina medievale no come di è un po' poco funzionale i medici non toccano mai i pazienti fanno gli oroscopi perché invece gli oroscopi la matematica delle stelle andava bene quella era stata incamerata all'interno quindi gli oroscopi si potevano fare se proprio l'oroscopo non funzionava potevano mandare il barbiere cioè il barbiere letteralmente quello che tagliava i capelli e staccava i denti a casa tua su ordine loro per applicarti delle sanguisuche e fare un salasso perché anche là la teoria degli umori di Ippocrate pure quella andava bene non confliggeva con Dio se proprio stavi sul letto di morte e bisognava dichiararlo allora il medico si presentava ma non entrava nella tua stanza e guardava la faccia cioè guardava come stavi tu in faccia non ho mai capito bene nonostante sia uno storico della scienza come è stato possibile che all'interno di questo sistema sia stia sviluppata anche la pratica dell'assaggio delle urine però non lo so evidentemente queste sono le famose contraddizioni di cui tanto si parla in filosofia fatto sta che il medicolevo è questo da un punto di vista di indagine della mente ci si arena su quello che hanno detto Platone e Aristotele in un pastisce e ci si concentra sul modello galenico il modello dei ventricoli ok senza provare neanche a andare avanti ok considerate poi ve ne parlo dopo che quando parliamo del 500 considerate che anche le lezioni di medicina erano un po' particolari insomma erano molto particolari ritorno un attimo alle slide e vado avanti perché o meglio vado avanti mi sposto di lato perché la verità è che nel medioevo non tutto il mondo ragionava così per esempio non ragionavano così gli arabi gli arabi che comunque ci avevano avuto insomma già il caro Maometto quindi già erano diventati come dire un popolo unico monoteista anche come dico un monoteismo abbastanza rigido e per certi versi anche già non più integralista però più saldo nelle sue convinzioni per esempio la convinzione di essere l'ultima religione rivelata questa è una cosa chi di voi magari studierà mai il mondo islamico l'islam è difficile da capire se uno non capisce che per gli islamici Dio già è arrivato la storia già è finita perché è arrivato rivelando il Corano però la verità è che nel loro sistema di credenze per esempio non avevano alcun problema nello studio del corpo anzi considerate anche il fatto che la cultura cugina della cultura araba cioè l'altra cultura semita la cultura ebraica che anche essa come sapete non ha dei grandissimi problemi rispetto all'indagine del corpo era per esempio l'unico popolo che sapeva curare le cataratte perché ci aveva provato ok l'operazione di cataratta quando è che il medioevo scopre che ci si può curare dalla cataratta che prima viene considerato un male incurabile una maledizione di Dio se non vedi più è perché hai fatto qualcosa di male perché avrai praticato troppa masturbazione o avrai guardato il profilo della madama di corte quando poi a un certo punto i cristiani fanno le crociate e scoprono che ci stanno tutti gli ebrei dall'altra parte del mare che dicono guarda io con ferretto ti sistemo sta cosa non ci metti niente neanche senti dolore e gli arabi in realtà con gli ebrei in questo senso ci avevano parlato molto e per esempio avevano cominciato a dedicarsi tantissimo allo studio del corpo ora io mi rendo conto che questa tavola anatomica che vi presento agli occhi oggi nostri sembra una cosa molto arraffazzonata ok ma io non so se voi vi rendete conto di quanta finezza in questa tavola di Mansurri Biniglias c'è nel descrivere i nervi domani voi studierete con me i nervi del sistema periferico in questa tavola signore e signori sono presenti tutti i nerdi che escono a coppia dalla colonna del sistema nervoso periferico ok inoltre anche da un punto di vista psicologico filosofi come Al-Farabi Ibn Sina che poi diventa uno dei grandi padri della medicina occidentale perché poi i cristiani a un certo punto più avanti quando si rendono conto che gli arabi in realtà l'avevano già l'avevano surclassati che fanno Ibn Sina se ne fregano del fatto che è islamico capito dicono no no se chiama Avicenna latiniziamo se voi andate nei musei di storia della medicina o in vecchie sale per esempio anatomiche a Bologna vedete che già alla fine del medioevo Ibn Sina Avicenna è considerato un padre della medicina occidentale no il fatto che pregarsalla veniva omesso in realtà questi autori questi filosofi hanno anche una psicologia molto raffinata per esempio io mi ricordo sempre io mi sono laureato con Carmela Morabito su una tesi nella storia della psicologia della musica e per esempio Sina fa tutta quanta una riflessione sulla ritmicità del linguaggio che è qualcosa che poi viene ripresa para para da Wernicke da Carlo Wernicke quando studia la fascia fluente alla fine dell'Ottocento cioè questi comunque avevano una capacità osservativa riflessiva molto importante la filosofia è veramente molto bella ma anche molto complessa e soprattutto succede anche una cosa interessante questa cosa probabilmente a prescindere dai vostri studi universitari la ricorderete cioè a un certo punto uno dei problemi grandi del Medioevo è che nessuno si ricorda più come si scrive in greco perché gli ecclesiastici studiavano e pregavano in latino ma il greco se lo ricordavano veramente in pochi invece gli arabi se lo ricordavano molto bene anche perché gli arabi avevano a che facco Costantinopoli in cui si continuava a parlare greco e quindi per esempio tutti questi autori per esempio Alfarabbi quello che vedete il primo citato nella slide Alfarabbi a un certo punto scrive dei libri in cui traduce Platone e Aristotele anche le opere che erano andate perse nel primo periodo e le persone cominciano a riavere accesso a questi classici qua di ritorno dalle varie crociate e con inizio degli scambi commerciali tutta l'occupazione araba della Spagna e così via questa cosa è molto importante perché in storia la conoscete come i motivi che portano al ritorno dell'umanesimo in occidente in psicologia la conosciamo come un momento di rifioritura che è essenzialmente quello dell'ultima parte del medioevo in cui si ricomincia quantomeno a leggere cose anche un po' d'estraforo o d'nascosto che riavvicinano tutto quanto all'idea dell'uomo poi parecchi commentatori di nascosto più o meno di nascosto dicono beh comunque non è che gli arabi studiando così tanto l'uomo fanno male il servizio di Dio ok in realtà però il sistema come dire di valori cristiano rimane tantissimo almeno per altri due secoli per l'appunto per un motivo anche molto semplice gestire il mondo implica anche che tu gestisci l'istruzione e le università per quanto avessero uno statuto loro speciale di una specie di indipendenza nei confronti della chiesa la verità è che le università erano comunque molto controllate dalla censura inquisitoria dai valori comunque sia ideologici che stavano dietro la chiesa la chiesa cristiana comincia a muoversi qualcosa a partire dal 400 quando tutta una serie di studiosi che sono persone anche che vi aspettate poco io ho citato Leonardo da Vinci ma dovreste citare anche Brunelleschi per esempio l'idea di una matematizzazione della prospettiva fa Brunelleschi non è che la fa Leonardo e poi quello è anche il periodo in cui comunque si cominciano a apparire anche dei personaggi molto strani all'orizzonte quando intendo molto strani intendo i vari Paracelso i vari Giordano Bruno i Maggi che se non sapere è un po' particolare è un sapere che per certi aspetti cerca un po' di relazionarsi a quello che non è stato studiato finora ci rimane questa grande frase di Leonardo da Vinci che sono un po' come una dichiarazione programmatica non esiste conoscenza che non sia il frutto delle sensate esperienze cioè di quello che posso misurare coi sensi e posso dimostrare anche matematicamente queste diciamo sono i prodromi della rivoluzione scientifica ma la rivoluzione scientifica nasce cioè parte ufficialmente diciamo come ci piacciono gli storici ogni tanto da un'idea di ufficialità che in realtà non c'è in un anno che non è difficile da scordare anzi è una delle poche date che ci si deve ricordare cioè il 1543 perché nel 1543 succede l'imprevedibile cioè vengono pubblicati due libri dei due autori che non si conoscono tra di loro e che tra l'altro neanche si rispettano cioè nel senso che Copernico non sa minimamente chi sia Vesalio Vesalio pensa che Copernico sia un buffone però questi due libri nel loro piccolo che piccolo così tanto non è cambiano completamente le carte in tavola perché il primo libro è il De Revoluzioni Bussorbi Un Celestium di Copernico quello in cui si dice guardate signori che Tolomeo non c'aveva ragione non stanno così le cose e soprattutto c'è una cosa molto importante cioè non è vero che la Terra sta al centro del sistema è il Sole che sta al centro noi ci giriamo intorno e i pianeti si muovono pure oltretutto si muovono anche seguendo delle scie che so ellittiche ora questo libro qua che era un libro fatto come dire a partire da osservazioni molto valide le leggi di Copernico sono ancora valide per la cultura dell'epoca fu un dramma intanto perché il fatto che la Terra non stesse al centro del Sole sembrava contraddire apertamente un passo della Bibbia se ricordate quello in cui a un certo punto c'è un profeta che ferma il Sole e quindi se il Sole si ferma poi dicca era lui che si muoveva sennò poi affatto affermasse ma poi c'era anche un altro problema che per la gente del Medioevo era inaccettabile cioè il fatto che noi lo sapevamo che i corpi celesti si muovevano ma si muovevano in modo circolare Aristotele aveva detto che il cielo intorno a noi è perfettamente circolare e intorno a esso c'è un altro cerchio perfettamente circolare concentrico il cerchio era perfetto il cerchio era Dio e invece arriva questo e dice guarda non è vero niente in realtà si muove come un ellissi e ti dirò di più neanche se muoveva alla stessa velocità negli stessi punti questa era una cosa terribile perché significava che l'universo non era fatto come aveva detto Dio e quindi era sottoposto al caos nello stesso anno arriva un altro un tizio particolare André Van Vessel si naturalizza in Vesalio è un medico ma soprattutto è un anatomista olandese che viene a studiare a Padova poi a Pisa insomma si è sposta un pochino d'accordo con varia gente insomma come dire che conosceva rimedia un sacco di cadaveri cosa assolutamente illegale all'epoca perché lui dice l'anatomia di oggi fa schifo io voglio fare un'anatomia bella voglio fare un'anatomia artistica infatti se in effetti vedete le illustrazioni che si fa fare da uno dei da uno dei più importanti incisori dell'epoca sono effettivamente molto belle anche molto artistiche ma Vesaglio soprattutto scrive questi sei libri in cui minuziosamente descrive il corpo umano ora questa cosa qua scusate stacco un attimo la condivisione tanto il resto su questo un attimino ora voi dovete immaginare di che cosa fosse una lezione universitaria di medicina in particolare l'anatomia era tipo una lezione su teams per farvi capire se possibile peggio nel senso che c'era intanto si poteva fare una volta all'anno questa è una cosa importante si poteva fare solo una volta all'anno e indovinate in che giorno si poteva fare la lezione di anatomia simbolica questa cosa qua a carnevale cioè il giorno in cui le regole sono rovesciate visto che le regole sono rovesciate questo giorno famo così a voi medici facciamo addirittura come è fatto un essere umano e come era fatta la lezione c'era il tavolo la cattedra e mezzo cioè non era la cattedra era il tavolo ok dove c'era un corpo umano davanti al corpo umano c'era il barbiere di fiducia del professore il professore non lo toccava minimamente il corpo e poi funzionava così di solito si leggeva o il departibus animalium o il deusopartium che erano i due libri di Calena e di Aristotele che avevano fatto fondamentalmente la storia dell'anatomia e il professore leggeva piano piano il libro e a un certo punto diceva e sotto allo stomaco c'è la milsa e il barbiere apriva prendeva la milsa faceva la vita a tutti la milsa diceva vedi la milsa e calava e la buttava tutto questo fino a che non esaurivano tutte le parti del corpo e poi si buttava e era finito tu non potevi aprire un cadavere non potevi toccare un cadavere contento smundi fa schifo che tocchi a fare il cadavere che ci devi fare che cosa c'è che non abbia già scritto Aristotele esattamente che devi andare a far cimiter Calena lo fa e mentre lo fa oltre a abbattarci fondamentalmente le basi dell'anatomia moderna dice una cosa en passant nel libro quarto dice e poi riguardo alla rete mirabile che Galeno dice essere la base di tutto il sistema degli esperti di animali io vi voglio di che avrò aperto almeno 70 persone e io sta rete mirabile non l'ho mai vista sembra un tra le righe ma si scatena il panico perché se Galeno ha sbagliato su quello allora può darsi che Galeno se sia sbagliato pure su tutto il resto e questa è una cosa che comincia a mettere tutti quanti profondamente in crisi ma profondamente in crisi detto questo però sul momento visto che c'è un problema più grosso culturale che è quello di Copernico perché Copernico con sta storia degli astri ha fatto solo dato voce a un sacco di gente che già aveva visto quelle cose che non tornavano rispetto alla Bibbia diciamo che questa situazione viene accantonata poi Vesaglio comunque sia come anatomista e moderno ma come medico e aristotelico c'è uno ancora che fa gli oroscopi tra l'altro muore pure per una storia di oroscopi sbagliati quindi la questione viene un attimo accantonata ok e viene accantonata giustamente questo è il momento come dire che dobbiamo anche inevitabilmente spostarci pure noi su questa cosa qua perché è parte del gioco è parte della storia c'è la rivoluzione scientifica Galileo no? la rivoluzione scientifica che nasce nella fisica con il metodo sperimentale di questo Galileo che scrive queste grandi opere il saggiatore il sidereo snuncius in cui dice guardate che vi siete sbagliati esiste un sistema esiste un mondo fisico che ha le sue leggi che dobbiamo scoprire attraverso gli esperimenti la caduta dei gravi dalla torre di Pisa insomma non vi racconto la storia della rivoluzione scientifica ma che vuole rompere con la tradizione descrittivo-classificatoria c'è poi il processo non ha mai detto eppur si muove però c'è stato il processo e c'è stata anche la biura io non so se è un libro che può rientrare nelle vostre corde ma ve lo consiglio di cuore dal cuore Leben das Galilei cioè la vita di Galilei di Brecht la più bella opera teatrale di Brecht secondo me in cui c'è una meravigliosa lettura della vita di Galilei come spiega un po' come dire un po' romanzata sempre dal punto di vista di Brecht che c'è anche lui i suoi interessi a dipingere questa figura però bellissimo l'idea di questa persona che nonostante la biura questo Brecht lo rende benissimo ormai ha appiccato l'incendio ormai i testi di Galileo che non possono essere pubblicati in Italia in Spagna dove vigela il potere della Santa Inquisizione possono però essere pubblicati in Olanda possono essere pubblicati nei paesi protestanti e il mondo moderno il mondo del primo capitalismo dell'età moderna è un mondo che si baserà su questa rivoluzione scientifica e tecnologica ok ora sarebbe bello parlarvi di tutto questo anche di continuare su questo filone ma io in realtà devo chiamare in causa un altro signore un signore che vive essenzialmente negli stessi anni di Galileo uno dei grandi padri della filosofia occidentale che è Renato Descartes detto Cartesio ora di Cartesio tutti gli studenti di filosofia sanno una cosa cioè sanno che è facile ricordarsi la pubblicazione delle opere di Cartesio è sempre il 1650 perché Cartesio dovete sapere che non è che fosse proprio un cuore di leone nel senso che lui era terrorizzato che gli facessero il processo pure a lui quindi andava sempre dai suoi amici nobili diceva prego prego scrivo i libri però poi li pubblicherete dopo era anche un tipo strano noi tendenzialmente tendiamo a pensare che Renato Renato Descartes fosse un grande razionalista in realtà considerate che il progetto di filosofia e di rivoluzione del mondo attraverso la conoscenza gli viene quando tornando da una guerra in cui aveva combattuto cade da cavallo inciampa su una roccia e vede la Madonna dell'Oreto questo è tutto scritto nei suoi diari non è che me lo sto inventando io però a fatto sta che a Madonna di Loreto per fortuna gli ha dato un bel compito e in effetti Cartesio ci si dedica lagremente a costruire un sistema filosofico che pur non dicendo l'altra voce se non lo bruciano si basa sugli assunti di Galileo cioè si basa sugli assunti che il mondo sia fatto da particelle di materie in movimento un mondo fatto di fiusis un mondo fatto di fisica un mondo fatto di materia naturale del mondo però non è che Cartesio come neanche Galileo come nessuno di quelli che ho citato prima avesse per un attimo anche soltanto accantonato l'idea che dovesse esserci pure qualcos'altro che aveva a che fare col divino e se voi considerate il fatto che la mente nel Medioevo non esiste perché la mente è l'anima per Cartesio c'è un certo problemino perché? perché Cartesio da un lato vuole dire no no c'ha ragione Galileo c'ha ragione c'hanno ragioni fisici il mondo è fatto di materie in movimento particelle di materie in movimento dall'altro lato non può non salvaguardare l'anima e quindi cosa fa? fonda una filosofia basata su due sostanze sostanza in filosofia significa le cose su cui regge una parte della realtà regge la realtà detta molto brevemente una sostanza è la res extensa cioè la cosa che ha un'estensione quella che posso toccare quella che posso misurare quella che è uguale per il muretto di cemento davanti a me ed è uguale per me ed è uguale per Ettolino il gatto ed è uguale per le piante tutti siamo fatti di materia ma l'uomo ha anche la res cogitans quella famosa sostanza pensante la mente l'anima quella che gli permette di dire cogito vergo sum chi è che cogita chi è che pensa pensa l'anima non è che pensa il rene e questa cosa qui è alla base di un sacco di problemi dell'occidente tanti alcuni filosofici molto profondi tipo per esempio il rapporto tra soggetto e oggetto ma su questo non è anche centro perché se no finimo più però per esempio come ne so qualcuno di voi è vegetariano è vegano è antispecista chi è vegetariano è vegano è antispecista saprà che spesso la gente è costretta a combatte con questa idea che gli animali non soffrono chi è che ha detto per la prima volta che gli animali non soffrono sì esatto 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 esattamente quello che stavo dicendo è proprio questo il punto Cartesio quando dice i uomini hanno l'anima e il resto del mondo no lui si avanza da solo un'obiezione e dice e gli animali e dice no ma gli animali mica c'hanno un'anima te sembra a te che c'hanno un'anima in realtà sono solo dei meccanismi perfetti sono solo degli automi fondamentalmente quello che tu senti e interpreti come dolore è solo il cicolio della parte meccanica che viene strozzata questo per esempio l'idea che gli animali non soffrano o l'idea per esempio io conosco tantissime persone che sono dispostissime ad accettare che il cavallo il cane il gatto soffra ma che non possa soffrire la zanzara o il topo perché sono troppo piccoli i bacarozzi non soffrono ma perché ce l'hanno il sistema nervoso soffriranno pure loro poi c'è un altro discorso che è il grado di senzienza e di coscienza dell'animale però questo misunderstanding nasce da cartesio e poi soprattutto questo misunderstanding da res cogitans fa nasce un altro grande problema che è quello che noi in filosofia chiamiamo il mind body problem anche in psicologia in realtà lo chiamiamo il mind body problem cioè il problema mente corpo che oggi ha delle vette teoriche allucinantemente profonde in parte le accarezzeremo anche però essenzialmente è la domanda seguente come fanno la mente e il corpo a interagire ora cartesio da una soluzione abbastanza semplicistica e non a caso falsa e tra l'altro lo vengono pure tutti in giro appena muori per questa cosa qua dice l'anima riesce per dei motivi che non vi sto a spiegare perché non li so non io cartesio non mi sapeva per la stessa missione riesce a manipolare il movimento di una piccola ghiandola che sta in mezzo al cervello che è la ghiandola pineale che secondo cartesio deve essere la sede dell'anima per un motivo molto semplice le mani sono due gli occhi sono due i reni sono due gli emisferi sono due dentro al cervello solo quella io riesco a vedere poi l'altro non l'aveva mai vista lui direttamente lo desume da un'altra informazione solo quella ghiandola è unica quindi quella è la sede del cervello voi dovete immaginare che per cartesio la ghiandola pineale è una specie di centralina di smistamento degli spiriti animali lui per esempio tira fuori un concetto che è molto simile al concetto di riflesso anche se non è esattamente il concetto di riflesso dice bene Ganguiem in cui dice che cos'è il riflesso il riflesso è tocco il fuoco con il piede gli spiriti animali eccitati dal calore tutta roba si potrà spiegare in maniera meccanicistica arrivano fino alla ghiandola pineale che prende coscienza allunga apre un altro serbatoio che rimanda giù lo spirito animale che dice alla gamba muoviti quindi un sistema perfetto di macchine di leve e di meccanismi governato da quest'anima che muove sta ghiandoletta pineale ok ovviamente poi che ne so Stenone che è un anatomista nel 1666 gli dice lo descrive proprio dice guardate cartesico ci avrebbe fatto un favore a dire che non sapevamo niente del cervello io sul cervello ce lavoro va sicuro che non ha detto niente del giusto piuttosto sarebbe stato più corretto dire non lo sappiamo studiamolo meglio anche questo testo qua è un testo importante nello stesso anno esce un altro volume storico fantastico che si chiama De Cerebri Anatome di Willis che è un più grande neonatomista inglese che invece per esempio avevano operato l'anatomia del cervello fatta bene in cui Willis prende le sue cantonate per esempio pensa che i nervi ottici debbano essere quelli che portano la musica perché la toccati sembravano più morbidi degli altri allora visto che la musica è una cosa suave devono essere per forza quelli i nervi ma al di là di queste butad comunque dal punto di vista di neuroanatomia è considerato ancora un manuale non te dico valido ma quasi adesso però un attimo il cervello lo accantoniamo perché comunque anche dal punto di vista psicologico la psicologia di Cartesio è una psicologia già una psicologia se io ti dico che c'è la mente che c'è l'anima e che l'anima controlla il corpo e che l'anima per esempio è perché pensa in qualche modo Cartesio sta dicendo che noi la mente ce l'abbiamo a prescindere no? abbiamo questa anima questa res cogitans che è l'anima e che poi avrà i suoi modi per imparare questo non mette tutti quanti d'accordo non sono tutti d'accordo su questa cosa per esempio non sono d'accordo nel 600 gli inglesi gli inglesi i cosiddetti empiristi inglesi gli empiristi anglosassoni cioè vi faccio i nomi più noti Locke, Hume, Berkeley dicono beh ma non è che le cose siano proprio così perché se voi andate a vedere bene com'è che si formano i pensieri com'è che si formano le memorie è come se la mente fosse una tavoletta di cera candida scrive Locke su cui le esperienze quindi da cui il nome empiristi segnano le loro tracce e piano piano associando diverse tracce differenti si si vanno a concretizzare i pensieri più importanti anche più complessi non è un caso sempre vedete questo rapporto tra storia società e scienza non è un caso che questo modello qua cioè il modello di piccoli elementi che si associano tra loro è lo stesso modello di cosa del come funziona il mondo secondo la chimica che nel 600 in Inghilterra è la scienza più avanzata e di riferimento poi noi avevamo anche comunque la tradizione filosofica un allievo di Kant Wolf scrive a un certo punto un libro che si chiama Psicologia cioè lo chiama proprio con questo nome qua è la prima volta che viene utilizzato il termine e in cui distingue la psicologia empirica cioè quelli processi psicologici che nascono dall'esperienza ma anche una psicologia razionale d'altra parte c'è lo zampino di Kant lo sentite qua c'è l'idea di una razionalità che c'è che è a prescindere dall'esperienza che c'è in quanto tale e insomma come dire io non posso entrare nella storia della filosofia ma se seguite quella storia insomma è una storia fantastica ognuno ha la sua posizione tanto per farvi un esempio giusto così per raccontarvi questo il problema del mentecorpo dopo la morte di Cartesio viene risolto nelle maniere più assurde non so se avete mai sentito il nome di un filosofo che si chiama quasi semi sconosciuto che si chiama Malbranch Malbranch è uno che sostiene una posizione per risolvere il problema del mentecorpo che dice no Cartesio si è sbagliato propongo la mia si chiama occasionalismo che cos'è l'occasionalismo secondo Malbranch ogni movimento che facciamo è soltanto l'occasione che Dio ha per manifestare la sua volontà attraverso i nostri corpi quindi in realtà io non sto facendo niente è tutto Dio che mi agitano questo poi dà vita a tutta una serie di gag nei licei classici tutta gente che si mina in classe dicendo Malbranch occasionalismo non so se sto io però al di là di questo capite che il panorama è quanto mai molto fantasioso cioè c'è proprio di tutto di più e ciò nonostante non si può dire che Cartesio non abbia fatto comunque un grande favore alla scienza perché avendo diviso Rescogitan Seres Extens aveva creato un grandissimo problema per chi voleva studiare la mente perché o eri prete cioè o eri teologo e allora c'era senso studiavi l'anima oppure era complessa era un po' diciamo complicata la faccenda ma dall'altra parte aveva detto che il corpo funziona come tutto il resto della materia addirittura nasce una nuova scuola di medicina che si chiama Iatro Meccanicismo cioè medici per farvi capire Malpighi Fonaller che dicono il corpo signori è tutta una serie di macchine e guardate che questa cosa qua è una cosa fondamentale perché per esempio l'idea che il braccio sia una specie di leva fatta da tiraggi permette la nascita della prima ortopedia permette la nascita della prima prostetica che funziona cioè sono cose importanti permette anche lo sviluppo concomitanza con la chimica del 600 della medicina della farmacologia farmacologia pure sì c'era stato Paracelso ma voi lo sapete come si chiamava ve la ricordate la canzone Bombastic sapete che vuol dire Bombastic in inglese Bombastic vuol dire una cosa esagerata pacchiana di uno che urla nelle piazze del mercato che fa dei proclama sempre più grandi sapete da dove viene dal nome di Paracelso Paracelso si chiamava Teodoro Teofrastus Bombastus Paracelsus lui era un un piazzista cioè lui arrivava nelle piazze diceva io c'ho i remedi a tutto d'altra parte come si direbbe oggi doveva pure pagare l'affitto però in realtà nei suoi scritti per esempio si accorge di alcune cose che poi vengono riprese da questi diatromeccanicisti tipo per esempio non esiste la droga o il veleno o il farmaco per sé è la quantità che tu somministri in base alla condizione che fa l'effetto queste cose qua fin tanto che le diceva Paracelso urlando in piazza e dicendo che aveva ricevuto la saggezza dagli dei antichi non poteva funzionare epistemologicamente invece al fine del 600 la gente comincia a dire beh ma allora se c'è una malattia forse per esempio c'è anche un farmaco che cura una malattia se c'è la febbre alta perché è salita la temperatura del calore forse c'è qualcosa che può curare questo calore qua per esempio si comincia a pensare che non devo fare il salasso se c'è la febbre ma che devo semplicemente raffreddare il tuo corpo poi tante cose non servono comunque la medicina sperimentale nasce a fine 800 quindi comunque ce ne vuole però capite che è un bel passo avanti no? e questa cosa qua dà vita anche a un sacco di riflessioni in medicina la neuroanatomia l'anatomia partono a stecca perché ormai si può studiare il corpo perché è come se studia una pianta quindi non succede niente non sto facendo offesa a nessuno anzi aumento le mie conoscenze quindi nasce l'anatomia moderna esplode nasce l'anatomia comparata cioè la gente comincia a dire beh ma allora posso studiare pure come è fatto un leone posso studiare pure come è fatto un cane pure come è fatto un uccello e cominciano a nasce per esempio anche modelli del funzionamento del corpo e quindi in parte anche sempre un po' della mente per esempio in Francia si cominciano a fare gli automi si cominciano a costruire delle macchine tipo la papera tipo canzone che gli potevi mettere il cibo in bocca e facevi la cacca e non penso che sia mai stata realizzata c'è lo schizzo c'è la bozza che all'interno che c'aveva c'aveva quello che si pensava essere il corpo secondo i dettami del meccanicismo i polmoni sono ammantici il cuore è una pompa sono gli stessi anni in cui Harvey scopre che la circolazione è sanguigna che non è vero che il sangue passa per il fegato poi passa per il cuore e poi diventa sangue no il cibo è un circolo chiuso e quindi per esempio possiamo cominciare a fare trasfusioni possiamo cominciare a mettere i lacci emostatici e curare le persone c'è un grande avanzamento c'è un grandissimo avanzamento la psicologia rimane una questione filosofica essenzialmente fin tanto che a un certo punto non arriva un altro cialtrone guardate è bellissima la storia della scienza soprattutto quella della psicologia è piena di cialtroni ma dei cialtroni geniali veramente geniali quindi vi presento questo cialtrone illustre questi due cialtrone illustri sono due in realtà che nel settecento verso la fine del settecento cominciano a fare un sacco di panico all'interno dell'Europa sto parlando di Franz Josef Gall e il suo allievo e degno compare Johann Gaspar Spurzheim ci sono queste persone? allora voi dovete sapere che Gall fu uno dei più grandi anatomisti comparati della sua epoca gli anatomisti comparati erano quelli che facevano anatomia non solo dell'uomo ma anche degli animali per cercare di capire come erano fatti tutti i viventi Gall a forza di toccare i crani degli animali comincia a fare una cosa che in realtà l'ha già fatto Aristotele pure in passato ma che lui riprende e dice ma non è che il comportamento degli animali è legato al fatto di come ci hanno fatto il cervello e quindi in ultima istanza di come è fatto il loro cranio? ora questa cosa è un'idea non del tutto balzana nel senso che poi vedremo che in parte questa cosa è vera nel senso che noi possiamo localizzare in parte del cervello alcune funzioni mentali però la verità è che non lo possiamo fare secondo il principio di Gall per cui il cervello spinge sul cranio e ti fa i bozzi e a parte dai bozzi tu puoi capire come è una persona vi faccio l'esempio che è un esempio che io ho studiato durante la mia tesi e che mi sembra sempre uno molto evidente anche per far legare il tipo lui aveva notato che tutti gli uccelli che cantano hanno due bozzetti particolarmente pronunciati a fianco agli occhi e a un certo punto dice evidentemente la parte della musicalità nel cervello umano è evidenziata da dei bozzi a livello della tempia a livello dell'osso temporale e addirittura lui cerca di sostanziare questa sua affermazione dicendo che ha recuperato i crani di Mozart padre e Mozart figlio che in realtà non può aver recuperato perché noi sappiamo che Mozart figlio fu sempre una fossa comune quindi probabilmente gli hanno fatto il pacco nel senso che gli hanno venduto un cranio per Mozart che non era quello suo però fatto sta che arriva questo grande personaggio che sa anche farsi cioè non è uno non è un paracelso questo ha studiato il medico e va in giro per i congressi le società scientifiche e va in giro a dire questa cosa qua ora lui in particolare va in Francia perché è vero che è tedesco però dovete tenere a mente che all'epoca diciamo a cavallo tra 7 e 800 la lingua della scienza è il francese si va in Francia per studiare veramente e i francesi avevano un sacco di motivi per detestarlo non fosse altro che visto che Cartesio aveva di Cartesio la francese aveva detto l'anima è una sola è la res extensi stanno agliando la mineale l'idea che uno andasse in giro a dire che c'erano tante piccole menti tante piccole facoltà le chiamava Gall localizzate in aree differenti del cervello era una bestemmia era una bestemmia poi è vero pure che come le presentava Gall erano particolari perché erano di solito tra le 21 e le 27 dico tra le 21 e le 27 perché a seconda delle direzioni che trovi per esempio anche Gall e Spurzai mi differiscono nel numero di facoltà poi alcune erano comuni con tutti gli animali tipo percepire il senso dello spazio e poi ce n'erano alcune che erano solo nostre tipo per esempio l'amore filiale una delle ultime capacità e sta cosa insomma sembrava veramente una presa in giro e l'accademia ufficiale francese lo manda proprio a quel paese nel senso che dice proprio addirittura Pierre-Marie Fleuron cioè uno dei neurologi più importanti della sua epoca scrive un libro in cui dice che il libro è dedicato alla buona filosofia di Cartesio per combattere la cattiva filosofia dei frenologi ok quindi poi c'era proprio un odio radicato qual è l'unico paese secondo voi l'unico paese del mondo che quando Gall viene cacciato dalla Francia non solo accoglie la frenologia ma ne farà addirittura un business che dura circa 150 anni? no chiede qual è l'ultimo no non è l'Inghilterra qual è l'altro che avete detto? no no dai non vi buttate così giù ragazzi c'era pure gente seria all'epoca gli americani gli americani non a caso non so se avete visto come dire Django di Tarantino no? ma forse qualcuno di voi vedete Big Bang Theory no ma l'ombroso c'aveva altri problemi poi se vuoi dopo ne parliamo no però se avete visto Big Bang Theory ricorderete che la neurobiologa c'ha un cognome particolare si chiama Fowler 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 non so nella traduzione però Fowler no? Fowler era la famiglia di persone che quando vide Spurzheim per la prima volta a parlare a un congresso si presentarono gli dissero senti ma se noi ti diamo dei soldi noi possiamo aprire dei gabinetti frenologici in tutti gli Stati Uniti d'America cioè dei posti in cui noi toccamo i bozzi alla gente e gli diciamo come crescerà Spurzheim invece pensa c'era pure un po' dei problemi delle spese di viaggio e diceva beh sì questi costruiscono un impero ragazzi c'era un gabinetto di frenologia Fowler in ogni città degli Stati Uniti d'America capito? e loro ci credevano considerare la frenologia come sparisce dalla cultura popolare americana dopo la guerra di secessione dopo la guerra civile quindi immaginatevi come stavamo messi per farvi capire vabbè ma questa è una piccola io voglio anche molto bene gli americani ci lavoro tanto però su queste cose qua e su cose assurde dico il concetto che esiste la razza per loro è una cosa che noi proviamo a dire noi europei da 40 anni diciamo non è vero loro no but it is a concept that we have to explore non c'è niente da esplorare non è vero non c'è stanno i razzi umani comunque a parte questo fatto sta che però Gall un'impronta l'aveva lasciata sull'Europa perché quanto meno era riuscito a dire una cosa era riuscito a dire che effettivamente effettivamente si poteva cercare la mente nel cervello cioè si poteva andare a cercare una facoltà all'interno del cervello e questa cosa la coglie con molte cautele questo signore qua che è un signore un grande studioso un grande antropologo Pierre-Marie Broca che ha un paziente particolare forse questa storia la conoscete la storia di Tan cioè a un certo punto a Broca gli si presenta in clinica un signore si chiamava Messie Le Borgne in realtà Paul Le Borgne a un certo punto questo signore gli dice cioè lui non dice niente però arriva e il signore ragiona capisce tutto capisce quello che gli dici se vuoi ti scrivi anche una risposta su un foglio ma se parla dice soltanto Tan ho visto che c'è un refuso è afasico dice solo Tan riesce a pronunciare soltanto Tan Broca fa l'unica cosa che può fare perché non è che c'era nelle risonanze magnetiche all'epoca cioè lui prende e comincia a dire vabbè io osservo tutto registro tutto annoto tutto il giorno che Tan muore si fionda in ospedale apre il suo cervello e cosa ci trova all'interno trova che nella terza circolazione del lobo frontale sinistro c'è un evidente segno patologico e con molta timidezza perché diciamo quando è che faccia la fine della galla si presenta alla séance dell'accademia della séance francese e gli dice guardate io ho penso di poter localizzare la facoltà dell'articolazione del linguaggio cioè della capacità di articolare le parole per l'appunto nella terza circonvoluzione del lobo frontale sinistro che da quel momento noi chiameremo area di broca che cosa succede? succede che come se si fosse aperta una diga tutti i neurologi francesi cominciano a dire guarda l'avevo osservato pure io sta cosa qua io avevo osservato che per esempio se invece succede dall'altra parte la gente capisce una cosa diversa da quello che ho detto allora comincia a farsi strada l'idea che si può studiare la mente insieme al cervello e questo è estremamente importante perché nel frattempo ci sono tutta una serie di autori a stavolta in Germania che cominciano a dar vita a una psicologia basata sui dati fisiologici questo signore qua era Fechner ve ne parlerò poi di Fechner perché fa troppo ride uno che uno che perde la vista a un certo punto perché lui deve capire che cosa significa la luce del sole quindi comincia a fissare con gli occhi legati il sole fino a che non arriva la moglie e lo comincia a menare mentre lui sta ancora in questa situazione dopodiché lui diventa cieco e nei diari dettati racconterà che il suo incubo peggiore era che adesso la moglie tutti i giorni gli diceva che era un cretino perché sarà ciecato guardando il sole oltre a Fechner che inventa la psicofisica cioè inventa la prima formula che dice posso misurare la sensazione che provo cioè il cambiamento di due stimoli c'è Donders che per esempio comincia a dire beh voglio studiare quanto tempo ci mette a ragionare una persona allora posso sottrarre i tempi del task che viene presentato al tempo della richiesta questo si chiama metodo sottrattivo dei tempi di reazione ed è un altro importantissimo metodo della prima psicologia c'è Helmholtz che tornerà quando parleremo della visione e basa tutto quanto sulla conoscenza del nervo ottico e sull'idea che aveva elaborato un altro che si chiama Johannes Müller perché non ho messo che i nervi funzionassero attraverso una modalità specifica con tempi specifici si chiama legge della specificità della trasmissione nervosa questa qua poi ne parliamo domani quindi ecco si è creato un clima culturale ragazzi e si è creato un clima culturale particolare perché adesso questo è l'ottocento e l'ottocento è il secolo del positivismo e l'ottocento è il secolo della grande fiducia nella scienza e della tecnica il mito del progresso andiamo avanti francesi e tedeschi fanno una gara noi ormai siamo stati fuori anche gli inglesi a questo punto ormai forse no ancora qualche sprazzo ma diciamo che lo scettro è passato in continente però fanno una gara a chi c'ha più conoscenza scientifica e poi per l'appunto arriva pure un ultimo signore il signore che ci manda come dire definitivamente a nozze cioè uno dei grandi padri della nostra cultura e una persona che come dire se possono avere tutte le opinioni qua siamo un po' come full metal jacket potete avere tutte le opinioni che vi pare a me basta che non siate razzisti perché è una cosa che non posso sopportare che non come dire che ci abbiate rispetto per l'orientamento sessuale di tutti e che non ce l'abbiate con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale poteva avercela con Freud e Marx quanto vi pare anche con Nietzsche ma non con Darwin perché Darwin veramente è un uomo che anche nella sua omiltà intellettuale ha veramente cambiato il mondo padre della biologia padre di un modo di pensare il mondo completamente differente sapete che si dice che questo periodo della storia dell'occidente è una storia segnata da quattro grandi rivoluzioni cioè Marx che arriva e dice la storia non è progresso è scontro di lotta tra classi e tutti oh mazza come noi pensiamo vive nella concordia invece no è arrivato Marx ha detto così eppure c'è uno spettro che gira per l'Europa e il comunismo poi arriva Nice che dice guardate c'è un'altra brutta notizia è pure morto Dio no? e siate solo voi che state banchettando sul suo cadavere tutti è morto Dio è morto Dio poi arriva Darwin e dice pure lui dice guardate che non è vero che siamo speciali rispetto al creato siamo tutti siamo animali tra l'altro discendiamo tutti quanti dalle mebbe e comunque i nostri cugini più prossimi sono le scimmie e vi voglio da pure questa notizia l'evoluzione funziona per caso non c'è che c'è un obiettivo l'evoluzione e poi infine arriva Freud che dice guardate la coscienza è solo una minima parte di quello che voi pensate ci abbiate in testa i bambini anche loro hanno una sessualità e poi soprattutto voi volete far l'amore con vostra madre questa è la cosa che li lascia tutti devastati i quattro grandi maestri del dubbio i quattro grandi maestri della nostra contemporaneità della nostra cultura Darwin è quello su cui proprio non si può transigere perché? perché la visione del mondo che ci lascia Darwin la visione del mondo dopo Darwin è una visione che dà un quadro coerente alla naturalizzazione della nostra presenza nel mondo sì certo ci perdi il fatto che ci sia la mano di Dio ma tutto sommato sta mano di Dio se la vede soltanto nelle premesse invece Darwin dice no la natura c'ha una sua regola c'ha una sua regola spiedata magari ma c'ha una sua regola c'ha una sua legge c'è un quadro coerente noi non siamo apparsi perché sì siamo apparsi perché ci siamo evoluti in differenti specie a partire da un progenitore comune in risposta alle selezioni che ci faceva l'ambiente e che ci come dire noi non conosceva ancora la genetica ovviamente Darwin però le mutazioni avvengono per caso se poi l'ambiente le seleziona positivamente allora la specie andrà avanti quell'individuo andrà avanti ed eventualmente alla fine costituirà una nuova specie ora è inutile che io stia a parlare di quanto Darwin sia importante per la biologia per la scienza in generale però posso parlare di quanto è importante per la psicologia perché Darwin a un certo punto dice se io sono in fin dei conti la stessa cosa della famosa scimmia che si usa sempre anche là mi spiace dire la scimmia perché sembra un po' che io avvalori quella tesi sapete qual è l'immagine classica che accompagna la teoria dell'evoluzione sui manuali di scuola questo ve lo dico soprattutto perché devo diventare la docente di scienza c'è questa idea questa immagine c'è sta scimmia poi c'è l'australopiteco poi c'è l'homo habilis poi c'è neandertalensis poi c'è l'homo sapiens c'è due grandi errori questa immagine da un lato sembra una scala e non esiste una scala della natura cioè l'evoluzione funziona ad albero soprattutto è casuale e poi soprattutto sembra giustificare il fatto che alla fine si arrivi a noi dove per noi badate bene nelle immagini di libri non è che c'è sta un essere umano X cioè un essere umano maschio bianco e occidentale probabilmente anche eterosessuale cioè queste sono le questioni ideologiche nella scienza di cui vi parlavo ma al di là di questo al di là dell'evoluzione dire che la differenza nella mente il comportamento e l'intelligenza di una scimmia o di un essere umano differisce solo in grado e non in sostanza cioè non è un po' una questione di cambiamento di qualità è una differenza quantitativa ok è una differenza di grado di possibilità di interazione ma non è che l'uomo c'ha l'anima come il linguaggio no non è che l'uomo c'ha il linguaggio perché gli ha dato Dio evidentemente ci sono stati dei cambiamenti che hanno portato allo sviluppo all'evoluzione di questo comportamento qua questa cosa per la psicologia è una come posso dire una game changer totale non so se voi vi rendete conto che questo significa che per la prima volta le persone possono decidere di studiare gli animali perché se studiano il comportamento e l'intelligenza degli animali allora possono stanno studiando anche in qualche modo quella dell'essere umano vedremo che questa cosa qua è assolutamente molto rilevante per la nascita della psicologia scientifica anche e soprattutto negli Stati Uniti d'America che saranno poi quello che la domina allora ragazzi ragazzi detto questo io intanto interrompo un secondo la registrazione qui e vi chiedo cortesemente se possiamo fermarci qua perché mi sta veramente sto parlando veramente tantino abbiamo fatto poche pause e sono partito quindi se per voi va bene io oggi interromperai qua e ci vedrai domani mattina alle 10 concludendo la parte storica e metodologica e poi passando al sistema nervoso va bene per voi può andare allora se ci sono delle domande beh comunque 5-10 minuti per le domande me li tengo intanto se parlate voi insomma riesco pure a recuperare un po' di fiato come è andata questa a recuperare un po'